I prodotti alimentari hanno bisogno di essere conservati con cura, devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dagli spazi di temperatura, con materiali igienici, resistenti e magari ecosostenibili, come il vetro, facile da modellare e personalizzare, mentre una buona chiusura allunga la conservazione, permettendo ai prodotti di essere distribuiti con calma in tutta sicurezza. Arpaia, tu produci, noi conserviamo. SCARNI SRL e CARNI GENUINE, salumi artigianali di produzione propria, preparati di carne su richiesta. SCARNI SRL è in via del progresso, attraverso Abate dei Grandesnil, alla mezza terme, telefono 0968 23 990. SCARNI GENUINE, salumi artigianali di produzione. Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio a Terenato, alla nostra nuova giunta qua, diciamo, Cristal, che veramente non la vedevo dall'estate scorsa. Ho visto adesso che mi fa piacere averla qua oggi insieme a voi. Salutiamo anche la nostra Claudia. Poi salutiamo anche la nostra Rosita, è assunta e vorrei salutare anche la famiglia di STV e tutti coloro che ci seguono da casa. Buon pomeriggio e un buon ascolto e buon divertimento con buona domenica speciale. Perfetto. Grazie, grazie al nostro maestro. Intanto diciamo chi ci supporta oggi con i suoi regalini, con i suoi omaggi per i nostri ospiti, per quelli che giocheranno, per rispondere alle tue domande. Oggi diciamolo, è Cristal che ha preparato queste domande e per quelle che saranno le partite che andremo a sentire da qui a non molto. Chi ci omaggia oggi? I nostri sponsor, che sono i nostri angeli, sono Dolcemente Viad, la Mezzia Terme e Gimer, Piazza Rotonda, sempre la Mezzia Terme ovviamente. Perfetto. A questi aggiungiamo gli angeli che ormai sono fissi nelle nostre trasmissioni. Sicuramente parto con il saluto e l'abbraccio forte per Arpaia Claudio e famiglia. Grazie grande amico Claudio, grazie a tutti gli altri. B&B and Breakfast, Bella Vista, la Mezzia Terme. San Pietro Ammai, che è città dell'olio d'oliva del ragionier Bruno Giuliano. S. Carni, della splendida famiglia Saladino, con un saluto anche agli amici di questa splendida famiglia. E poi abbiamo ancora Dolcemente, che è vendita al dettaglio di prodotti dolciari in la Mezzia Terme. E poi ancora Patrick, che è parrucciere, Acciudere, Hotel Paradiso, ristorante che è in via Pusia Antica, Palerna. Detto questo, noi oggi seguiremo, anche come nostra consitudine, le partite di calcio. Oggi ce ne sono due in modo particolare che noi dobbiamo seguire, anche perché stiamo parlando di un derby che viene giocato in quel di Gianni Renda di La Mezzia Terme tra San Biasi 1923 e Vigor 1919. È il primo derby che disputano in una categoria che è la prima, che è quella che stanno portando avanti da un bel po' di mesi. E poi seguiremo sicuramente da Castrovillari la nostra FC La Mezzia, che ha un incontro abbastanza duro. E quindi da qui a non molto sentiremo per quanto riguarda il derby che si gioca qui al Gianni Renda di La Mezzia Terme. La nostra dottoressa Stefania Scarfò, che da qui a poco sicuramente il nostro regista mi passerà, per farci sapere com'è questo derby, com'è cominciato, perché le partite iniziano alle 14.30, mentre subito dopo sicuramente seguiremo invece la partita e l'inizio di Castrovillari, che vede la nostra FC La Mezzia appunto nel Cosentino a disputare questo incontro. Io direi che mentre aspettiamo il primo collegamento possiamo già inserire quelli che sono i primi ospiti, che evidentemente staranno qui tutta la puntata con noi, di chi si tratta perché qualcuna è tua grande amica. I primi ospiti di oggi sono Patrick Parrucchiere e la modella di oggi che è Jessica Malvaso, un portento di ragazza che ho fortemente voluto perché è una mia carissima amica. Eccoli qua, li facciamo entrare subito in mezzo a noi, ci vediamo dopo con te Daniele, grazie, grazie. Eccoli qua, allora, benvenuti intanto e grazie. E noi facciamo una cosa, conosciamo Patrick intanto perché ormai è un nostro ospite che noi vediamo ben volentieri, anche se a distanza di qualche mese, che evidentemente oggi farà un bel lavoro con questa meravigliosa modella che tra l'altro Cristal ha già presentato. Emozione? Molto, questa è la mia seconda volta, grazie a Renato che mi ha invitato. Sono qui con la modella Jessica che andiamo a seguire della concitura esposa in questi nuovi eventi che arrivano di quest'estate. Quindi ti vediamo in una forma smagliante, allegantissima. Grazie, grazie, grazie. Invece per quanto riguarda la nostra Jessica voglio passare la palla per rimanere sempre in gergo calcistico alla nostra Cristal perché è lei che l'ha voluta fortemente qui oggi con noi. Sì, intanto ringrazio Patrick per la bellissima piega come potete notare, in più che dire di Jessica. Jessica è una ragazza molto solare, io conosco dalla prima elementare. Vuoi dirci tu qualcosa anziché parlare io? Perché è anche una bellissima voce. Grazie, grazie a tutti per l'invito, vi invito molto, vi invito da una persona di vita. Il microfono accendiamolo così, brava, adesso puoi andare, era spento. Grazie, e cominciamo via questa paura. Non riusciamo a sentire la nostra Jessica, vediamo un po' se riusciamo, puoi andare lì così facciamo intanto. Il bello della diretta. Ecco, si vede proprio che siamo in diretta e noi assolutamente non ci perdiamo perché adesso il microfono verrà subito messo a posto e quindi rientra infatti la nostra Jessica e ci può dire tranquillamente. Prego. Salve, allora come stavo dicendo prima, grazie per l'invito a Cristal. Ella è stata una mia compagna, dall'elementari, la conosco da quando eravamo piccoline, siamo state sempre insieme, quindi è una compagna di vita, diciamo così. La ringrazio molto di nuovo per questo invito. Io voglio sottolineare un altro fatto importante della nostra Jessica che ho saputo appena qualche minuto fa, prima che lei entrasse. Lei è stata un'allieva del nostro maestro Valentino che purtroppo ci ha lasciato e quindi mi ha fatto piacere, enormemente piacere, sapere che lei è un'artista anche col piano, col flauto, detto bene. E quindi oggi abbiamo preso lo spunto per fissare una trasmissione dove lei ci allieterà con questi due strumenti importanti e per ricordare anche perché noi, il nostro maestro Valentino che è stato tantissime volte ospite in questi nostri studi e tutto lo staff perché mi pare che la Magna Grecia, aiutami, ancora esiste, c'è stato qualcuno che ha continuato il percorso del nostro maestro. Allora, torniamo a te Patrichi, cosa ci fai oggi? Perché so che hai un programma piuttosto importante che poi parleremo di quello che sarà nella domenica prossima perché si presume che tu possa ritornare per fare qualche altra cosa nella domenica prossima, ancora non diciamo niente però. Ancora non diciamo niente, niente, oggi presenterò due acconciature di un raccolto, acconciatura sposa e una seconda acconciatura di una acconciatura sciolta. Niente, presento queste due acconciature per questi nuovi eventi che verranno perché la sposa si prepara sempre prima e niente, poi ci saranno questi, questo è un altro evento con Renato che sarò anche io al parrucchiere e niente, questa è la mia... Allora, non ti facciamo dire nient'altro perché tu non vedi l'ora di metterti lì al tuo posto e per la nostra Jessica, accomodatevi così noi di tanto in tanto vi verremo a trovare con Cristel per vedere come procedete, va bene? Grazie, grazie a dopo. Eccoli qua i nostri amici. Allora Cristel, io sto aspettando che ci siano i collegamenti prima di far partire il nostro maestro fortunato perché è così che funziona, però ancora non arrivano, allora noi diamo la possibilità al nostro maestro di farci iniziare questa trammissione con lo suo brano che ha scelto, ci sei? Tony Renes, il grande Tony Renes, brano che fu tra l'altro presente al Festival di Sanremo. In quel periodo questo brano ebbe tanto successo, quando, quando, quando? Quando, quando, quando? T'ascoltiamo, vai, grazie. Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando L'anno, il giorno e l'ora in cui Forse tu mi bacerai Ogni istante attenderò Fino a quando, quando, quando D'improvviso ti vedrò Sorridente accanto a me Se vuoi dirmi di sì Devi dirlo perché Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando E baciando E baciando Mi dirai Non ci lasceremo mai Non ci lasceremo mai Se vuoi dirmi di sì Devi dirlo perché Devi dirlo perché non ci lasceremo mai dimmi quando, dove verrai dimmi quando, quando, quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai dimmi quando, quando, quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai non ci lasceremo mai non ci lasceremo mai grazie bravo al nostro maestro Fortunato che ci fa iniziare sempre con questi brani che mi portano dietro negli anni, tanti anni Tony Renissi, quando, quando, questa canzone la conoscevi, allora intanto abbiamo il primo collegamento, vediamo se c'è dallo stadio Renda di La Mezzia Terme la nostra dottoressa Stefania Scalfoci, sei Stefania? Sì Renato, buon pomeriggio, dallo stadio Gianni Renda è cominciato da circa sette minuti la sfida, il derby tra San Biase e Vigor a 1919, in questo momento c'è la Vigor in attacco con il numero nove Ortolini che spreca una ghiotta occasione per portare in vantaggio la sua squadra, il suo destro, un po' un piatto destro, stila a fil di palo alla sinistra di Simonetta. Ti leggo le formazioni delle due squadre, la Vigor si schiera con Colottimo, Gallo, Cittadino, Calomino, Cossu, Rissuto, Foderaro, Perri, Ortolini, Lesa e Vucina. Il San Biase ancora, la Vigor è andata vicino al vantaggio ma l'azione è stata fermata per una squadra di portiere, quindi insomma comunque nulla di fatto, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Sono in debito della formazione del San Biase, il San Biase che si schiera con Simonetta tra i pali, quindi Perri, Cincotta, Michienti, Fortuna, Anello, Platì, Dioppo, Scartino, Angotti e Pellegrino. Ricordiamo anche i due tecnici, Paolo Gallo da una parte, Gianluca Ferrone dall'altra, le panchine sono così composte per la Vigor. Ci sono Vecchio, Giudin, Bubba, Calidonna, Perri, Giudice, Scardamaglia, Nascardi e Cattino. Per il San Biase, Vecchio, Riletta, Chirico, Varrà, Stallari, Filie, Ciccio e Liparota. Termine il derby per la famiglia Sardino, Paolo da una parte e Giuseppe dall'altra. Giuseppe nella Vigor, Paolo nella San Biase, oggi è un derby particolare per entrambi. Paolo regolarmente in campo, Giuseppe invece per la Vigor parte dalla pantina. Ora il gioco è fermo, c'è a terra il portiere del San Biase, Alessandro Timoneta, che ha subito una carica. C'è l'intervento dei sanitari in questo momento, quindi il gioco fermo. Ti sottolineo, grande partecipazione sugli spalti. Gianni Renda è pieno per quanto possibile, ovviamente la capienza è al 50%. Credo che i biglietti siano andati quasi totalmente esauriti. Una bella risposta da parte di entrambe le tifoterie. Le due squadre sono entrate in campo con uno striscione che recitava «Questo fischio d'inizio è la nostra vittoria» con i due loghi delle due squadre. E poi le due squadre insieme, i giocatori, si sono mischiati, se così possiamo dire, per posare per una foto con una maglietta. C'era un augurio di pronta guarigione a Carlo Gallo, giocatore della Vigor 1919, rimasto vittima di un incidente e quindi si augurava al giocatore una pronta guarigione. Quindi il derby che è partito con animi decisamente distesi e con un clima assolutamente sereno. La partita è ripresa adesso e risulta per fermo sullo 0. Perfetto, grazie alla nostra magnifica Stefania per questo collegamento, ma subito dopo io credo che noi avremo delle notizie veramente belle anche da Castrovilleri perché mi comunicano, se non mi comunicano male, tra virgolette che la nostra FC Lamezia è già passata in vantaggio. Però vediamo un po' se riusciamo a fare questo collegamento con il nostro Giovanni Mazzei che ha detto stampa appunto dell'FC Lamezia e ci possa confermare questo primo vantaggio della nostra FC Lamezia in quel di Castrovillari. Detto questo, allora abbiamo cominciato col botto. Intanto Cristela, tu col calcio come sei messa? Perché io sono rimasto all'ultima volta, però la tua squadra del cuore c'è, sì. Allora sì, la mia squadra del cuore è la Roma, però ahimè, ora forse non mi chiamerai più. Mia nonna mi portava da piccola alle partite del Catanzaro. Eh vabbè, giallorossi, giallorossi. Quindi sono una giallorossa nel sangue. Eh vabbè, ma perché? Perché no? Giallorossa è della nostra Calabria, quindi non c'è niente di strano. Anzi, poi ognuno si crea la squadra che gli è più simpatica. Funziona così il mondo dello sport, di tutti gli sporti, che sia calcio, che sia ciclismo, tennis e via dicendo. Sportività. Assolutissimamente. Quindi, detto questo, io ritengo che noi possiamo già cominciare a chiamare quel magico signore che sta di fronte a me. Io lo vedo che è con la mascherina e quindi vediamo un po' se riusciamo a farlo arrivare, perché cominciano ad arrivare i nostri ospiti. Me lo vuoi presentare? Intanto lui arriva. Oggi abbiamo un ospite speciale che è il nostro Alessandro Bencivenga. Beh, canta e scrive canzoni dal 1996, ha partecipato a molteplici concorsi dove si è proposto sempre come cantatore. Allora, un attimino perché abbiamo quest'altro collegamento, lui ci perdonerà, è Castrovillari che interviene con il nostro Giovanni Mazzei. Ci sei Giovanni? Ci sono qui dal mimorende di Castrovillari, dopo che la partita è iniziata da circa un quarto d'ora e il risultato è già sbloccato. Avevamo già avuto questo risultato mentre stavamo per metterti in collegamento con noi, nei nostri studi. Giovanni, ci sei ancora? Ecco, ci sono dei problemi col collegamento, ecco perché non eravamo già riusciti da prima a collegarci con Castrovillari. Eccolo qui, è ritornato Giovanni, ci sei, ci sei. Vi sentite? Stavo dicendo che qui a Castrovillari il risultato già è stato sbloccato dai colori giallo-blu del Mezzia Terme. Infatti al terzo minuto vi è stato il vantaggio l'Ametino grazie a uno splendido inserimento di Salandria, quest'oggi schierato mezzala dal mister Campilongo. Il suo inserimento è stato veramente efficace, tanto che ha trovato il gol con un diagonale che ha trafitto l'incolpevole portiere locale ai Olfi. La formazione di quest'oggi schierato in campo è la mezzia terma e la seguente. Lai, Corapi, Salandria, Sabatino, De Marco, Haber, Contipaldi, Sirignano, Provazzamenta, Bollino. Una buonissima prestazione qui nei primissimi minuti da parte della mezzia terma. Gli uomini di Campilongo stanno coprendo nella maniera migliore possibile il campo, seguendo diligentemente i dettami tattici in partiti dal tecnico campano. Questa attenzione, questa dedizione, questa pericia con la quale gli uomini di giallo blu stanno seguendo gli insegnamenti del tecnico si è tramutata nel vantaggio l'Ametino che Pio Canci vi ho citato. Quindi quando siamo più o meno al quarto d'ora il risultato qui a Castrovillari è il seguente. Castrovillari 0, la mezzia terma 1. Grazie Giovanni, ci sentiamo poi nel secondo tempo. Grazie di cuore. Perdonaci se Alessandro abbiamo dovuto interrompere la tua presentazione con questo collegamento, ma oggi come vedi c'è un po' di ansia perché ci sono due partite veramente che noi dobbiamo seguire in quanto sono due partite che sono importanti per la nostra Lamezia ma anche per la nostra Calabria. Diciamolo, c'è questo derby che appunto vede Sambiase e Vigorro e c'è questa partita a Castrovillari della nostra FC Lamezia che noi seguiremo di tanto in tanto per sapere gli sviluppi. Detto questo, Cristal, presentamelo meglio questo magnifico artista. Come dicevo prima, canta e scrive canzoni dal 1996 e ha partecipato a molteplici concorsi dove si è preposto come cantautore. Nel 2000 è stato a Napoli, alzeremo Rock and Trend come rappresentanti della Calabria, sempre nel 2000 al premio Mia Martini con un inedito scritto apposta per quell'evento. Nel 2001 partecipa alle selezioni finali del Festival di Sanremo al Teatro Ariston insieme alla Tatangelo e nel 2004 partecipa alla realizzazione di un CD della casa discografica Shark di Catanzaro dal titolo Mix Parade insieme a molti cantanti regionali. Nel 2021 esce su tutti i digital store il suo primo singolo La Libertà, registrato da Dissonanze Studios. Ha fatto serate di piazza e altri concorsi, sempre con il countatore. Beh, che dire, un curriculum molto pieno? Beh, diciamo, mi sono andato da fare, non mi sono annoiato, ecco. Molto modesto, me lo ricordo sempre. Complimenti veramente con un curriculum del genere. Lui può andare fiere e orgoglioso di quello che ha fatto finora, anche se giovanissimi, ancora il percorso è lungo e abbastanza, come dire, gli auguriamo possa essere intenso di altri successi e di altre situazioni. Però noi facciamo una cosa, intanto ti facciamo rilassare perché ti abbiamo preso a volo, non eri ancora entrato e già ti abbiamo come primo ospite portato qui nei nostri studi. Facciamo una cosa, ti facciamo giocare perché la nostra domenica speciale prevede che i nostri ospiti debbano giocare. Come vedi si avvicina già dal nostro Daniele con le partite e la nostra Cristian con le domande che avrà già preparato. Allora, cominciamo col calcio, dai, visto che abbiamo questo primo risultato, che tu mi confermi? 0-1. 0-1, vai. Allora, gli assegniamo Rendiacireale. Eh, questa partita, questa è una partita che è praticamente di serie C, la stessa categoria che vede la nostra FC La Mezza. Come la vedi questa partita? Come finirà? Non sono un intenditore di calcio a livello, io capisco qualcosina di serie A e poi... Ma facciamo, visto che Rendi è una squadra calabrese, mettiamo 2-0, dai. 2-0 per il Rendi. Memorizza questo... Tanto Renato, c'è un altro risultato, Trapani-Cittanova 0-1. 0-1, perfetto. Quindi abbiamo un altro risultato che Daniele ci comunica in diretta perché seguirà tutte le partite così come da prospetto e quindi di volta in volta ci aggiornerà. Cristela, stanotte non hai dormito, mi sa che hai dovuto prendere il posto di Claudio e quindi hai pensato a quale domande potevi fare per i nostri ospiti. Cosa ti sei inventata per il nostro Alessandro? Allora, per il nostro Alessandro la domanda di oggi è La capitale della Romania è A. Budapest, B. Praga, C. Sofia di Bucharest. Come sei in geografia? Come sei messo? Te la ripete? La ripeto. La capitale della Romania è A. Budapest, B. Praga, C. Sofia di Bucharest. La butto, eh. Perdonatemi. No, no, guarda. No, mi dispiace, era la D. Bucharest. Va bene, non ti preoccupare. No, in Romania tu non andrai a fare concerti perché non ti vorranno sicuramente. Scherziamo naturalmente. Allora, Alessandro, facciamo un'altra cosa intanto perché noi sappiamo che tu per cantare per dedicarci questo meraviglioso brano che hai scelto per noi hai bisogno di un po' di atmosfera tra virgolette nel senso che ti dobbiamo prendere la chitarra ti dobbiamo sistemare quindi abbiamo bisogno di tempo. Sai che si è inventata la regia? Mi dice che c'è un video che addirittura arriva dalla provincia di Cosenza dalla nostra professoressa Antonella Cesario che ci vuole presentare una ragazza che ha fatto un film questa ragazza si chiama Rosa e mi pare che il titolo di questo film sia Una Femmina è qualcosa di veramente carino importante ma ha fatto questa sorpresa la nostra professoressa che io saluto con affetto insieme a tutto il suo staff della scuola di danza e sono curioso pure io di sapere che cos'è perché è così in diretta avvengono queste cose e noi le facciamo senza preparare niente. Pietro, ma è vero che c'è questa situazione? e me lo confermi? me la vuoi mandare? la nostra prof con l'intervista? mi ha detto di sì vediamo Buon pomeriggio Renato grazie per la linea e buon pomeriggio a tutti i telespettatori di STV siamo qui per incontrare a domenica speciale la piccola protagonista calabrese del film Una Femmina con regia di Francesco Costabile che dal 17 febbraio sarà proiettato nelle sale cinematografiche nonché finalista al 72esimo festival film di Berlino nella sezione Panorama il film è stato girato nella nostra bellissima terra ma io non voglio spoilerare nulla perché è giusto che i nostri telespettatori anche quelli più curiosi si recchino nelle sale cinematografiche per vedere questo grande capolavoro e apprezzare anche le bellezze della nostra terra quindi invio il nostro regista a mandare il trailer grazie no certo tu non capisci a usciti o con noi o quelli e quando mamma è tornata non stavo ancora là? ma perché pensa queste cose? mamma si ha tenuto diavolo un corpo egli invece parla poco io parlo quando serve e poi l'ha detto però tu no? che è morto un padre e mamma parla mamma era una tipa da via con noi diceva che eravamo baci tu ti ricordi ancora? che non c'è uno che vuole un male nostro e l'avevo montato a casa un tragediatore io voglio solo sapere il tuo padre senza umani come chi esse noi non siamo niente lo capisci? che sei una maladesa tu sei l'unica che può cambiare il suo schifo tu sei forte sei più forte di tutti bene abbiamo visto il nostro trailer che ci ha già anticipato le scene suggestive ed importanti del film là dove abbiamo potuto vedere la nostra piccola protagonista ma io voglio subito presentarvela mi chiamo Rosa ho otto anni sono nata a Mantua ma vivo a Cosenza e ho un fratellino di quattro anni come sei entrata a far parte di questo casting? sono entrata da una foto che mi aveva fatto mio zio e mia mamma l'ha postata su facebook e una persona che si occupava di trovare una bambina mi ha visto e gli è piaciuto il mio sguardo e mi hanno telefonato mia mamma e mi hanno fatto andare al teatro dell'acquario dove ho incontrato Francesco Costabile e Francesca Marchese e mi hanno fatto fare una prova di improvvisazione e un provino benissimo e che emozione hai provato tu in quel momento e per questo provino che stavi andando a fare tanta felicità perché è stata la mia prima volta e poi era anche bello e poi io so che c'erano tantissime bambine che erano lì per concorrere sì e invece poi il tuo sguardo e questi tuoi occhioni hanno fatto sì che la protagonista scelta sei stata tu sì quindi questa felicità ancora dura o è finita subito dopo che hai girato il film? ancora dura perché ho conosciuto persone nuove e mi è piaciuto conoscerle i tuoi compagni di classe e le tue maestre che cosa dicono di ciò? allora le mie maestre sono molto felici per quello che ho fatto e i miei compagni alcuni non ci credevano però poi erano increduli a questo tuo successo e ancora quanto ne avrai sai perché questo è solo l'inizio ora che dal 17 febbraio ricordiamo andrà in tutte le sale cinematografiche il tuo film sarai ancora più gettonata di quanto già lo sei quindi dovrai abituarti a rispondere alle tante telefonate grazie per essere stata qui con noi a domenica speciale è vero Renato abbiamo avuto davvero un ospite speciale in questa nostra puntata e ti auguriamo veramente il meglio da noi tutti un bacio salutiamo insieme Renato e tutti i telespettatori di STV andiamo vicino a ti ciao Renato ciao a tutti di STV un bacio grazie alla prossima ciao complimenti veramente un applauso da parte di tutti noi di STV ricambiamo affettuosamente i vostri saluti e devo fare i complimenti a questa meravigliosa Rosa questa protagonista di questo film carissima prof Antonella io la voglio conoscere ancora meglio questa ragazza così come abbiamo già concordato poi per quello che si sta organizzando in quelle di Montalto Uffugo con te e con il nostro maestro Gianni Briglio questo format me la canti papà quindi prima di arrivare al 19 di marzo abbiamo ancora qualche settimana quindi in diretta ti faccio l'invito a te anche a questa meravigliosa ragazza nei nostri studi per poter approfondire ancora di più quello che è il percorso che sta facendo questa ragazza Cristal hai visto questa ragazza piccolissima già che sta facendo veramente cose gregge posso solo ammirare guarda Renato è una spanna sopra iniziare da piccoli è un percorso già spienato le auguro tante cose belle come auguro a tutti i giovani ma anche gli adulti perché come possiamo notare non ha età il talento come il nostro Gianni Morandi di terzo classificato alla sua età assolutamente sì inseguire sempre i propri sogni a prescindere da tutto bene allora noi abbiamo ancora qui il nostro Alessandro che si è sistemato credo che lo abbiamo messo nella postazione giusta per poter regalarci questo meraviglioso brano però siamo curiosi Cristal di sapere che cosa lui ci farà da qui a poco ci fai una sorpresa parti e dopo ci dirai tutto che dici Alessandro? ti lasciamo la scena dai come di solito diciamo noi vai Alessandro ben ci venga negli occhi dell'anima mia tra mari e bistro c'è un gallo che canta al mattino però non so montagne di piume qua giù venute dall'est sirene a vapore che passano via di qua volano in alto frecce bianche e le stelle che tremano luna che guardi da lassù dove è la libertà la libertà la libertà ci sono momenti che la luce va via la musica suona la musica suona un silenzio e la libertà luna che guardi da lassù si vede la libertà luna che guardi da lassù luna che guardi da lassù si vede la libertà grazie bravo bravo Alessandro veramente complimenti ci hai deliziato incantato però questo lo lascio dire anche a Cristel perché noi di solito oggi non c'è Claudia però c'è la nostra meravigliosa Cristel che mi dirà come hai vissuto questo brano di questo meraviglioso artista sono rimasta estasiata perché è veramente profondo il testo di questa canzone appunto la libertà è un presupposto importante poiché ognuno di noi possa raggiungere i propri obiettivi possa essere in pace con se stesso e come ben sappiamo in questo periodo la libertà non è stata garantita perché siamo stati veramente chiusi come in una gabbia e quindi crearsi dei progetti delle aspettative pensare al proprio futuro è risultato piuttosto difficile sì infatti la libertà è anche un privilegio è una fortuna averla c'è una frase di Malcolm X che io voglio ricordare ogni tanto quando presento questa canzone che dice che non può esistere non si può separare la pace dalla libertà perché non esiste una pace senza la libertà capisci quindi la libertà diciamo si esprime anche sotto forma di pensiero libero di pensare libero di agire ed è una fortuna averla allora Alessandro tu hai fatto questa esperienza in quel di Sanremo quest'anno abbiamo seguito appena ieri è finito la 72esima edizione del Festival di Sanremo tu ci speri ancora di tornare in quel di Sanremo oppure non te ne importa più te lo chiedo così dire che non me ne importa è falso perché ognuno di noi in qualsiasi cosa si faccia bisogna sempre aspirare a migliorarsi ad andare oltre quindi perché no se viene meglio se non viene vado avanti lo stesso però è giusto avere degli obiettivi nella vita perfetto e mi pare che tu abbia le idee chiare e quindi io ti faccio un augurio veramente dal più profondo del cuore perché sei una persona che io ho conosciuto quest'estate ricordiamo la beneficio di chi ci sta seguendo nelle piscine olimpioniche della Marinella dove tu ci hai deliziato ancora una volta con una tua performance ti abbiamo rivisto ben volentieri anche in questa nostra domenica speciale e siccome c'è un detto non so se è calabrese o se è nazionale non c'è due senza tre io aspetto la tua terza volentieri con molto piacere anzi ti ringrazio ringrazio tutto lo staff di STV per avermi dato questa possibilità assolutamente siamo noi che ringraziamo te e facciamo ancora una volta un in bocca al lupo e tanti cari auguri al nostro magico Alessandro grazie mille grazie di essere stato con noi grazie allora Cristel mentre lì sistemano un po' tutto noi proseguiamo e andiamo un po' da queste parti perché sono curioso di sapere che stanno combinando e vedi un po' tu dai senti vediamo se mi agevolano col microfono perché voglio sentire anche sì arrivo così prendo scusateci facciamo tutti in diretta anche questo me lo tolgo e quindi questo lo diamo a lei vai vedo che questa acconciatura sta iniziando a prendere forma anzi più che forma vedo già un capolavoro la nostra Jessica poi ha un bellissimo viso quindi vuoi dirci qualcosa? non so se ti puoi vedere dalla giù ma sta venendo veramente bene allora l'acconciatura non la vedo comunque sta facendo un ottimo lavoro lo sento che è delicato molto delicato bello mi suggeriva prima Renato se avessi saputo mi sarei vestita di bianco e in effetti è proprio l'opposto tu Patrick come stai procedendo a questa acconciatura? io sto procedendo infatti a questa acconciatura visto che ha un bel viso di tirare tutto indietro a valorizzare lo sguardo gli occhi insomma perché ha delineamenti molto molto delicati e professionali e beh Renato oggi gli ospiti però non sono finiti assolutamente no noi lasciamo per un attimo Patrick e la sua bellissima Jessica e mi dicono che è arrivato proprio in questo momento il nostro chi è? vediamo se me lo presenti certo il prossimo ospite è il maestro Tiziano Barberio allora il nostro maestro ci raggiunge se non prima di aver sanificato i microfoni perché facciamo tutto in diretta e quindi è chiaro che maestro c'è il microfono sanificato che devi prendere se no non puoi parlare ecco perfetto vieni maestro vieni vieni mi hai colto di sorpresa noi facciamo così noi non è che prepariamo non abbiamo scaletta se non almeno annunciare i vostri nomi è il minimo maestro buonasera eccolo qui ciao buonasera maestro intanto hai portato bene anche la nostra FC Lamezia che mi dicono appena sei entrato tu ha segnato il secondo gollo quindi forza FC Lamezia e non diciamo altro perché noi aspettiamo sempre il finale delle partite quindi grazie maestro come stai intanto? mi trovavo di passaggio perché stavo andando a fare un po' di footing e sono in tuta e quindi hai fatto sport prima di tutto ero passato per salutarvi grazie grazie di cuore grazie veramente mi avete colto di sorpresa i tuoi saluti sono sempre graditi sono sempre veramente graditi anche perché tu manchi un po' dai nostri studi da un bel po' di tempo perché evidentemente ci sono dei problemi in famiglia approfitto per mandare un abbraccio forte al tuo meraviglioso papà che so non stare tanto bene lo mandiamo anche alla mamma alla gentile consorte del nostro maestro e noi oggi lo teniamo qui un po' in nostra compagnia anche perché lui sta preparando nonostante tutto delle situazioni abbastanza carine ne vogliamo parlare vogliamo dare un primo passaggio ai nostri telespettatori che sono curiosi beh possiamo dire che stiamo creando e cercando di creare qualche evento esterno nei vari locali qui della zona purtroppo per il problema covid ci siamo dovuti fermare momentaneamente ma ci sono parecchi progetti che vogliamo realizzare speriamo di poterli realizzare ma si che li realizzeremo anche perché appena arriva sta primavera io sono convinto che la pandemia andrà via ci lascerà veramente tutti tutti in santa pace per poter riprendere per poter realizzare tutto quello che di bello almeno abbiamo in testa e poi siamo nelle mani del signore ci affidiamo sempre a lui sicuramente sicuramente e quindi tiziano per no mi veniva in mente una cosa e lui lo facciamo giocare però per lui sai ormai è un classico per lui c'è sempre la busta e quindi se ci fosse stata Claudia mi avrebbe già detto Renato diamo la busta al nostro tiziano e noi non possiamo fare altro che ancora una volta dare la busta che numero mi consigli tu di busta per il nostro tiziano allora potremmo fare il numero due il numero due vediamo un po' io non so cosa c'è nel numero due l'ha detto lei Cristela non può essere a conoscenza di niente al numero due che cosa dovrebbe fare un obbligo un obbligo e mi sa che lui sa qualcosa di questo obbligo i soliti obbligi sembra fatta apposta per te ma com'è sto fatto eh lo so perché ogni volta mi prendete sempre di punta vabbè andiamo che cosa deve fare allora questo obbligo allora il nostro obbligo dice devi chiamare in diretta con il tuo cellulare un amico o un'amica e farti portare in studio un vassoio di pasticcini e una torta l'abbiamo già fatto diversi volte e ci siamo riusciti sembra che qualcuno dietro le quinte organizza tutto no devi prendere subito sto cellulare e lo devi fare perché la trasmissione prevede inventati inventati no no te lo facciamo portare te lo diamo eccolo qui prego pre ma lo dobbiamo fare non ti puoi tirare dietro qua il cellulare lo dobbiamo fare assolutissimamente questo te lo devi scegliere tu che ne so non lo so non lo so c'è del tempo per farlo è fino alla fine della trasmissione magari ci proviamo allora prendi il cellulare ma lo devi fare adesso però non lo puoi fare dopo no anche perché se non lo facciamo adesso il tempo che ci vuole per dare la possibilità a chi chiami di arrivare qua ci vuole poi giudiamo proviamo più tardi allora prenderai subito dopo il cellulare va bene allora intanto cos'altro è giunto no io sono contento perché ho sentito questo ragazzo questo Alessandro bencivenga bravissimo devo fargli complimenti anche perché è nipote di un mio amico si tra le altre cose tu ci hai dato la possibilità di conoscerlo ecco perché abbiamo legato torniamo a parlare di musica parliamo di musica veramente un ragazzo che ha delle bellissime qualità e quindi può emergere chiaramente anche nel campo musicale calabrese sia calabrese che italiana assolutamente sì come no sicuramente allora mi veniva in mente Cristal fagli una domanda intanto perché mi veniva in mente una cosa non lo so se riesco perché non lo faccio andare via Renato hai mille risorse fagli una domanda facciamo un altro gioco allora spero che questa domanda avrà una risposta corretta le ultime lettere di Jacopo Ortis furono scritte da Foscolo nel secolo ventesimo diciannovesimo diciottesimo no diciannovesimo con microfono diciannovesimo secolo non sei riuscito a rispondere a questo per poco guarda Renato questione di secoli allora guarda te lo passo io il telefono vai vai rispondi metti a viva voce metti a viva voce è andato è partito il numero metti a viva voce vedi chi ti risponde se tu l'hai fatto spengere eccolo qua vai vediamo se sta suonando vedi se arriva se no se ne va poi non squilla non risponde non che non si sente non viene bene io ho il cellulare dei veci quindi ci voleva il tuo cellulare vabbè ho capito ti sta andando proprio bene oggi guarda io non lo so perché tu hai preparato tutta sta cosa per farci veramente un dispensa vabbò daniele dove sei tu daniele vieni qua facciamolo giocare anche col calcio perché se no il nostro maestro ci ha fatto questa improvvisata oggi però mi sa che qualcuno ti aveva detto qualcosa sarò buono col maestro e mica tanto se non porterai dolci allora gli assegniamo Venezia-Napoli eh Venezia-Napoli 2 a 1 per il Napoli 2 a 1 per il Napoli tanto Renato se permetti dopo che abbiamo qualche altro allora abbiamo Castrovillari Lamezia 0 a 2 Licata-Gelbi sono 1 a 1 Rende-Acireale 0 a 1 Trapani-Cittanova 0 a 2 Olbi-Entello 1 a 1 e la Sampadoria vince sul Sassuolo 2 a 0 perfetto questi sono i risultati che dalla regia passano anche la schedina che noi abbiamo mandato in onda oggi altre situazioni non abbiamo quindi possiamo stare tranquilli e ti aspettiamo perché tu ci devi fare qualcosa di carino anche oggi allora maestro vai a prendere questo cellulare ti aspettiamo vogliamo la tua la tua telefonata la vogliamo va bene va bene ringraziamo il nostro maestro ciao Patrick e quindi ritorniamo intanto dai nostri amici che il nostro sta già completando qualcosa dai Patrick raccontaci la prima acconciatura la prima acconciatura l'ultimata questa è una acconciatura raccolta molto elegante la facciamo girare così si vede anche meglio se può anche sfilare non so è anche beh però non so se si vede si 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 vede assolutamente si si vede questa è la acconciatura raccolta molto impegnativa molto lavorata per un evento molto particolare perché è una acconciatura da sposa e dopo vado a seguire la acconciatura quella sciolta proseguiamo poi con la seconda con la seconda è proprio azzeccata al suo viso Renato direi ha fatto un lavoro perché tante volte non è solo come si fa ma cosa si va a fare in base alle caratteristiche proprio della ragazza io farei proprio girarla di nuovo per far notare tutti i dettagli proprio curata in ogni suo aspetto veramente sono sono perfettamente in sintonia con quello che hai appena detto però mi sembra anche giusto e carino adesso coinvolgere loro prima che facciano la seconda situazione e farli chiaramente giocare anche perché la nostra domenica speciale prevede anche questo allora venite più avanti venite più avanti diamo la possibilità ai nostri operatori di potervi inquadrare allora noi abbiamo tanti regalini che i nostri sponsor oggi ci hanno dato dolcemente Gimar sono degli sponsor dove noi andiamo puntualmente ogni settimana e ci danno gli omaggi i regalini per tutti quelli che sono i nostri ospiti e che poi debbono rispondere alle domande partiamo col calcio perché Daniele è già in pole position allora che partite diamo a questi due meravigliosi ospiti allora al parrucchiere diamo Vibonese Paganese allora come finisce sta partita Patrick è importante perché dobbiamo realizzare una vincita con questi omaggi dei nostri ospiti Vibonese Paganese come la classifica e va bene non si può cedere tutto di più che facciamo andiamo a prendere Vibonese Paganese 2 a 1 Vibonese 2 a 1 ricordalo questo risultato vediamo a Jessica cosa diamo Bologna Empoli come sei messa col calcio tu? benissimo qual è la tua squadra del cuore? non ce l'ho non ce l'hai quindi non è messa più bene per niente allora come è le squadre? Bologna Empoli 0-1 per il Bologna quindi come 0-1 per il Bologna 1-0 1-0 per il Bologna che giochi in calcio ricordate questi risultati perché sono importanti vi consentiranno di vincere un premio dei nostri sponsor andiamo alle domande che è la cosa che vi fa vincere subito immediatamente ciao Daniele grazie allora visto che ha il microfono proviamo con la nostra Jessica allora allora ecco per essere eletto Presidente della Repubblica si deve avere A la cittadinanza italiana B almeno 5 anni di anzianità come senatore C almeno 50 anni di età pensaci bene se vuoi ripeto la domanda è la tua amica che le ha preparate quindi non te la prendere con me l'ha fatta proprio pensando come terminare un'amicizia a Dulano in diretta in diretta allora tenterei con almeno 50 anni e vedi giusto ha vinto oh che bella dai allora già hai diritto a un premio dei nostri sponsor che ritirerai dietro le quinte nel finale di questa trammissione vediamo se Patrick è nato a pennello Renato a quel periodo visto che siamo reduci delle nuove elezioni Patrick vediamo se riesci a fare altrettanto anche tu vai allora visto che prima sapeva l'altra domanda effettuata ad Alessandro continuiamo con la geografia la capitale della Colombia è A. Kito B. Havana C. Bogotà la vuoi ripetuta? sì così hai l'idea di picciare vai la capitale della Colombia è A. Kito B. Havana C. Bogotà Havana? no mi dispiace Patrick con te non ce l'abbiamo fatta comunque non disperare c'è il risultato della partita di calcio che evidentemente se riesci ad azzeccarlo ti porti anche un premio io adesso vi dico una cosa andate a rilassare perché c'è un bel sole lì dopo di che noi faremo la seconda parte e voi rientrerete va bene così vi facciamo un attimo rilassare ci vediamo fra poco grazie grazie ancora allora Cristal è volata la prima parte di questa nostra domenica è volata veramente in un modo incredibile e noi come nostra consuetudine la chiudiamo con il nostro maestro fortunato che ci regala il brano per poi ritornare nuovamente con altri ospiti che ci stanno raggiungendo e quindi maestro cosa ci regali? un altro bello grande ricordo anche perché lo ricordiamo quest'artista che ci ha lasciato nell'anno passato e quanto è bella lei quanto è bella lei dai ti ascoltiamo maestro fortunato viene Cristal ti prego non mi dire che lei non è per me non darmi un dispiacere adesso che io l'amo tu non la conosci ma quando la vedrai sarà un'altra cosa e allora e allora capirai quanto è bella lei tu mamma non lo sai quando guardo lei io vedo io vedo gli occhi tuoi mi perdonerà se un giorno me ne andrò lo sai ma chi senza fine i fiori bianchi questo è lei ha negli occhi il mare non lo sa chi mi fa morire mi perdoni sempre lei tu la vedrai e capirai tutto 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 lei tu mamma non lo sai tutto quanto è io vedo gli occhi e poi Mi perdonerà se un giorno me ne andrò Prati senza fine, fiori bianchi, questo è lei Ha negli occhi il mare, non lo sa Mi mi fa morire, mi perdone sempre lei Tu lo vedrai e capirai Molto bella lei Grazie E bravo, bravo, veramente bravo Complimenti al nostro maestro Fortunato Ci incanta, sono canzoni che a me veramente fa piacere ascoltare Perché sono canzoni dei miei tempi Poi il maestro le interpreta veramente col cuore Con tanta passione Quindi io faccio i complimenti al nostro maestro Che è magnifico, è magnifico quando ci dedica questi brani Però noi avevamo un modo per chiudere la prima parte di questa domenica speciale Quando c'era Claudia che adesso non c'è E quindi io vorrei che trovassi anche tu un modo per chiudere questa prima parte Con Claudia si parlava in spagnolo Forse hai ricordi Questa volta non volevo essere impreparata Ho cercato di prepararmi, salvo qualche errore Vediamo Non svemos pronto e stare attentos Ah, ecco, questo era Così, vabbè Allora noi possiamo dire ai nostri telespettatori Di rimanere intanto incollati su STV Finisce questa prima parte Però abbiamo una seconda parte Veramente con altri ospiti che ci stanno raggiungendo Con i collegamenti che abbiamo decisamente Con gli stati di La Mezza Terme del Gianni Renda Per la partita che vede il derby tra Vigor e Sambiase E con la nostra FC La Mezza che è in quel di Castrovillari Il primo tempo mi pare che abbia chiuso con un vantaggio di due reti a zero Quindi vi aspettiamo per la seconda parte A fra poco, grazie I prodotti alimentari hanno bisogno di essere conservati con cura Devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dagli spazi di temperatura Con materiali igienici, resistenti e magari ecosostenibili Come il vetro, facile da modellare e personalizzare Mentre una buona chiusura allunga la conservazione Permettendo ai prodotti di essere distribuiti con calma e in tutta sicurezza Arpaia Tu produci, noi conserviamo S-Carni SRL e Carni Genuine Saloni artigianali di produzione propria Preparati di carne su richiesta S-Carni SRL e in via del progresso Traversa Bate dei Grandesnil Alla mezza terme Telefono 0968 23 990 Traversa Bate dei Grandesnil Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, a un certo punto, stanno parlando tra di loro, entra una zanzara. Il francese prende la spada, susum, e gli taglia le ali. Addirittura, poverino. Allora, l'inglese e il catanzarese tutti dicevano, te la faccio vedere io. Infatti, dopo un po' ne entra un'altra, prende l'inglese, susum, e gli taglia le ali e i piedi. Sempre alla stessa zanzara. No, un'altra zanzara che entra. No, un'altra. Eh sì, no. Perché quella gli aveva tagliato le ali. È il geranna. Dopo un po' ne entra un'altra. Allora prende il catanzarese, prende la spada, susum, e quella ancora volava. Addirittura. Allora gli inglesi e i francesi ritevano. E il catanzarese più che ci fa, cioè sì, sì, riditi, riditi, cavolara vola, però futtira un futtaccio. Vabbè, questa chiaramente la capiscono solo i calabresi, quelli che parlano la lingua, gli inglesi. Diciamo, fottere poi è un termine. Sì, vabbè, vabbè, chiudiamo la parola. Siamo in fascia protetta, quindi... Vabbè, abbiamo detto tutto. Per il resto... E l'ho dedicato alla splendida Cristo. Insomma, per dedicare una barzelletta del genere sarà felicissimo. Felicissimo. Se la ricorderò per tutto il tutto, per tutta la vita se la ricorderò. Vabbè, trovate un'altra che sia un po' più uguale. Visto che gliela dedichi a Cristo. Eh no. Volevo dedicargli una cosa che facesse ridere, in questo senso qua. Sì, sì, abbiamo capito, tu sei sempre abbastanza... Io sono abbastanza, diciamo, spontaneo, lo sai, non ho peli sulla lì. Assolutamente, cortese, gentiluomo... Però scusa, Minerato, posso dirti una cosa? Visto che vogliamo... Non ho un diavolo per capello oggi, perché c'è stato padre che chiamerli a fare. No, Renato, no, 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 non... Diciamo che ne hai fin sopra i capelli oggi, però parte questo. Scusa, Minerato, l'altra volta hanno giocato Assunta e il maestro Fortunato. Posso giocare anche io una domanda? Eh, ma mi sembra una richiesta veramente... Scusate, io veramente voglio giocare anche io. No, no, è corretto quello che... Io ti chiedo, vieni e perdono, perché non ci ho pensato prima. Perché io, ok, il maestro Fortunato... Allora, Cristian, diamo la possibilità anche a lui di giocare, perché la partita gliela do io dopo. Tu intanto fagli la domanda. Me la voleva autosegnare, così ero più fortunato. Che poi, oltre alla domanda, ti faccio fare anche la busta oggi. Guarda, ti premio per tutte le volte che non ti ho fatto giocare. Ah, direttore, quindi... Anzi, partiamo prima con la busta. Non dimentichiamoci della busta aperta, mi pare di non vedere più il maestro. Il maestro Tiziano mi sa che se l'è spignata, però. Vabbè, ci ha fatto questo colpo. Facciamo una cosa, prima della domanda, diamogli una busta. Visto che la tua è andata, uno, tre o quattro, che cosa scegli? La uno, la due o la tre... No, 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 scegli la tu, uno, tre o quattro. La tre o la quattro? La quattro. La quattro. Ecco la quattro. Quattro. Cosa gli tocca? La domanda numero quattro è un giudizio. Il tuo pensiero sul festival di Sanremo? Non ti poteva capitare di me, l'hai visto tutto, non ti sei perso un minuto. Non mi sono perso una serata del mitico festival. È stato un festival, devo dire, abbastanza seguito. È stato il festival più seguito, dicono, dagli anni 2000 addirittura, e dal 95 col mitico Pippo Bago. Quindi secondo me ha fatto, Amadeus ha fatto proprio colpo, perché, diciamo, è stato un Sanremo per tutte le età. Perché, diciamo, è stato un Sanremo con, comunque, senior e quelli più giovani. È stato un mix. Quindi ha saputo creare questo mix in modo tale da accontentare sia quelli più in là con l'età e sia quelli invece più giovani. Quindi, devo dire, un Sanremo ben riuscito. Quindi positivo il tuo commento su quello che è stato il festival di Sanremo. Vabbè, e ti abbiamo fatto la busta. Adesso la domanda per poter vincere i premi dei nostri sponsor, che, evidentemente, ancora una volta ci hanno voluto dare. Allora, domanda numero 7. Un cono si può ottenere facendo girare su se stesso un A trapezio, B triangolo, C rombo? Ah, caro mio, la domanda... Vuolevi la domanda? Che domanda è questa? È una domanda, una domanda. Rifletti bene, se vuoi vincere i premi. Allora, in musica si dice il triangolo no. Non l'avevo considerato. Perché c'è scritto anche il triangolo. Renato 0. Renato 0. Quindi la 2 io la elimino proprio a prescindere. Quindi dico la 1, la numero 1. E invece proprio il triangolo ti ha fregato, mio caro. Era proprio il triangolo. Il triangolo no, e invece... Ti resta un'ultima possibilità per poter vincere un premio, dai. Ti sta andando proprio male. Ma proprio malissimo. Ti ho dato tre possibilità. E ho chiesto io di giocare. Visto che non giocavi mai. Oggi giornata nera. Guarda, ti voglio dare un vantaggio. O non mi farei scherzi però, eh. Ti do proprio la partita della nostra FC La Mezza, che sta conducendo per 2 a 0. Risultato finale. Come finirà? Io, Renato, ti dico che l'FC La Mezza vince 3 a 0. Allora, memorizza questo 3 a 0. Quando me lo comunicherai a fine partita, avrai diritto a un premio. Sono andato bene, non sono... Assolutamente no. A parte la barzelletta che era un pochettino. No, no, vabbè, vabbè. Ma poi nel finale se me la trovi quella giusta per Cristela, però giusta, non come quella di prima. Volevo, diciamo, trovarti una barzelletta un pochettino più... Già, no, veloce. E dai, forza, veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, veloce. Una padella che fria, non c'è su una ragosta e una lumaca. Allora, la lumaca ci fa l'Aragosta. Dice, mamma mia, mamma mia, ragosta, siamo friuti. La lumaca, parla per te che la mia mazucca non c'è una lagina mazucca. Vabbè, con gli animali ce l'ha lui. Va, 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 va. Allora, vabbè, abbiamo fatto questo intermezzo con il nostro Daniele che adesso si dedicherà interamente alle partite. Io direi intanto di far rientrare i nostri patrichi perché ci sono gli altri ospiti che presentiamo da qui a Nomonti. Eccoli qua. Jessica è il nostro Patrick. Jessica, ti posso preannunciare che arrivano intanto dei saluti dalla tua squadra polisportiva. Non hai il microfono? Aspetta un attimino che lo rimediamo subito. Eccolo qui, arriva. Allora. Saluto il mio mister è il saldo occhi. Il saldo occhi. Sì, accendiamolo sempre perché, eccolo qui. Adesso mi sa che c'è la lucetta, sì. Va bene. Adesso c'è la mia società. No, non è acceso, quindi lo ridiamo nuovamente e speriamo che riusciamo ad accenderlo. Eccolo qui. C'è un segreto. La prossima volta te lo spieghiamo dall'altra parte. Allora, saluto la mia società, top volei la mezzia, anche le mie cari compagne, e soprattutto il mio mister, Vincenzo Angotti. Perfetto. E noi cogliamo l'occasione, visto e considerato che hanno mandato questo messaggio per te, di poter fare un incontro in una delle nostre trammissioni sportive con questa tua società che noi non conosciamo, perlomeno io non ho avuto il piacere di conoscere, e con la tua presenza, qualche altra allieva, così poi ci organizziamo. Va bene? Ok, mi farebbe piacere. Perfetto. Torniamo a Patrichi. Allora, siete ritornati per questa seconda situazione. Cosa ci fate vedere adesso? Adesso faccio questa seconda acconciatura di un semi raccolto, quasi sciolta, perché ho preceduto con l'acconciatura raccolta, adesso faccio la seconda acconciatura. Perfetto, vi lasciamo la scena e quindi ci vediamo dopo. Ecco, consegniamo il microfono, così noi abbiamo la possibilità... Che portento questa ragazza, suonatrice, modella, giocatrice di ballavolo, di tutto. Per la gioia della sua mamma, che salutiamo, che è dietro le quinte, la sta seguendo con immenso piacere, credo. Via, così funziona. Per me è una seconda mamma, Giuseppina la conosco da quando sono piccola, è una persona d'oro. Eccola lì. Infatti le mando anche io un bacio. Un bacio per la mamma. E allora, diciamo che ci sono questi due artisti che evidentemente sono dietro le quinte, adesso ci raggiungeranno, però io vorrei intanto che tu li presentassi, così man mano loro arrivano. Di chi si tratta? Sì, abbiamo Dasco e Mario Sando, che sono due cantanti. Eccoli qua, venite, venite. Dasco e Mario Sando, due magnifici giovani che ci raggiungono nei nostri studi, sorridenti entrambi, quindi le cose vanno bene, le loro squadre vincono, secondo me, se sono tifosi, però se no... Intanto correggiamo un errore, correggiamo un errore di autografia che si chiama Marco, non Mario. Ah, Mario. Giusto per essere precisi. Perfetto. Allora, io ogni tanto cambio pure io. No, no, se ti chiami Marco, ti chiameremo sempre Marco, ci mancherebbe. No, va bene. Allora, caro Marco, benvenuti ad entrambi e quindi con lui ci siamo già conosciuti in altra sede, con te mi sembra che è la prima. Però, per conoscervi ancora meglio, io vorrei che Cristal vi presentasse con i vostri brevi curriculum. Allora, Marco Sando, classe 1987 di La Mezzia Terme, voce della Tribute Band di Liga V e Radio Freccia, con la quale si esibisce da 14 anni in giro per la Calabria. Ha scritto anche un pezzo in inglese dal titolo Girl with Red Eye Glide R, disponibile su YouTube. Sì, bello, bello, bello. Breve ma intenso, eh? Tutto, tutto, tutto corregg... Ha detto già tutto, eh? Che ti conosce, beh, che ti conosce, beh. Complimenti a Marco, Grazie, grazie, grazie. Allora, il nostro Dasco, invece. Il nostro Dasco, cantatore classe 1990, un album all'attivo uscito a novembre 2020, dal titolo Senza Dire Niente, che contiene 11 tracce. Si è esibito al Teatro Harrison di Sanremo alla finale nazionale per il concorso Sanremo Rock, rappresentando la Calabria. Esatto, sì. E complimenti anche a Dasco per questo curriculum, oggi è la giornata di Sanremo, beh, è chiaro, solo ieri è finita questa altra edizione, la 72esima, e noi abbiamo approfittato, sia prima con Alessandro che con Dasco, per presentarvi degli artisti che sono stati in quel di Sanremo, all'Ariston esattamente. Esatto. Parliamone un pochettino prima di entrare nel merito di quella che è la vostra performance. Allora, questo Ariston, che cosa porta a voi che siete artisti che partite con delle speranze, chiaramente? Guarda, ti voglio essere sincero, avevo l'ansia per entrare quella volta, mi ricordo, pochi minuti prima, entro, lo guardo, tutto qui. Comunque era anche vuoto per via, comunque eravamo in piena pandemia, quindi, poi l'ho guardato, ma tutto questo era, poi mi sono esibito, ho fatto la mia esibizione, ho fatto una buona esibizione, però comunque poi ci pensi quando magari vedi il festival e vedi gli artisti quando passano negli stessi corridoi dove passavo io, negli stessi scalini, vi so anche i Maneskin quest'anno che hanno fatto l'ingresso da dietro, proprio le stesse scale che ho fatto io, quindi dico, ti fa un effetto strano pensare che tu hai fatto quello che ora fanno loro, capito? È strano. Bene, Marco non ha fatto ancora questa esperienza. col microfono, così ti sentiamo meglio. No. C'è in te il desiderio di poterla realizzare, di poterla fare, questa esperienza, oppure non te ne importa proprio niente? Ma sai, sono sempre esperienze che uno spera di poter fare, cioè, se capitano, sono quelle esperienze che sicuramente mica dici di no. Certo. Poi nel mio piccolo, insomma, qualcosa che mi sembrava inarrivabile, sono riuscito a farlo. Tipo, con il mio tributo abbiamo suonato con tutti i musicisti di Liga Bua, Quando tu li vedi nei concerti pensi che siano personaggi inarrivabili, invece poi quando ce l'hai accanto, qualcosa in quel momento l'hai realizzata. Uno deve sempre accontentarsi di ciò che passa. secondo me. Mi sembra che siano con i piedi a terra, sono dei ragazzi veramente abbastanza in gamba, fanno il loro meglio per mettersi in evidenza, però non sono di quelli che vanno e volano alto perché accettano le situazioni della vita così come arrivano. E quindi, oggi noi li abbiamo voluti qua anche perché ci vogliono proporre un brano che lascio intanto presentare a loro. Vediamo un po' di che si tratta. Allora, ho realizzato questo mashup e due canzoni ho messo via di Ligabue che la parte la interpreterà lui giustamente e ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Cosa è successo con questi due pezzi? Molti anni fa, se non sbaglio 13 anni fa, qualcuno si è accorto di questa somiglianza tra le canzoni. Non sono uguali. La cosa somigliante è la struttura e magari gli accordi. Le note sono quelle quindi nella musica non è che possiamo inventarci altre note e siccome si sposavano bene qualcuno ha fatto un mashup diciamo virtuale, ha preso le canzoni originali, le ha mischiate in modo non pulito. Ovviamente non si poteva fare. Poi ho voluto farlo io, proprio farlo pulito, interpretandolo, mettendoci la mia interpretazione, cercavo qualcuno da aggiungere e ho pensato a Marco più Ligabue di lui, non so chi ci poteva essere. Quindi hai raggiunto l'obiettivo. Sì, però la curiosità è stata che quando abbiamo pubblicato la cosa mi ha fatto notare che qualcun altro la sua testinista l'aveva già fatta questa cosa qui con la sorella che si chiama Rossella Facciolo, giusto? Fatto molto bene, però con voce femminile quindi interpretazione diversa, l'hanno fatto loro pianoforte e voce, fatto benissimo. Noi invece l'abbiamo fatto diciamo fedele all'originale, ecco l'unica cosa di... diciamo la versione maschia si può dire. Perfetto, allora ce lo fate ascoltare, preannunciate anche i titoli, così vi agevoliamo con l'altro microfono, lo puoi lasciare, così, prego, 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 eccolo qui, e quindi noi vi... sì, accomodatevi, intanto sistematevi tutto, e allora Crystal, sono due artisti veramente importanti che noi oggi abbiamo voluto nei nostri studi, li facciamo intanto preparare per quella che è la loro performance, e così D'Amblè, il primo impatto che evidentemente ti hanno suggerito, ti hanno dato questi due magnifici artisti, qual è per te? Così intanto gli diamo la possibilità di prepararsi. Sì, innanzitutto è bello umiltà, ma poi è proprio bello vedere tanti talenti calabresi che sono spesso sottovalutati, invece in vari ambiti abbiamo dei talenti che stanno emergendo e faccio un augurio in tutti i campi di poter emergere, dimostrare la nostra bravura. Perché tante volte si dice siamo nati in Calabria dove arriviamo, invece no Renato, perseverare, prima o poi riusciremo chi no, chi sì, ma l'importante è comunque provarci. Ecco, io ti do ancora alla possibilità di parlare di questi due artisti perché loro si stanno sistemando e quindi tu hai già detto di tutto e di più e quindi mi pare che loro mi hanno detto che sono già pronti quindi non dobbiamo aggiungere altro se non lasciare a loro la scena e ascoltarli in questa loro performance Marco e Dasco. Ricorderò il cuore anche se lo vorrai ti sposerò perché non te lo ho fatto male dove far male cercare trovarti poco e nell'ansia che ti perdo ti scatterò la foto ho messo via in un modo dicono così si fa nel comodino sono a mine consigli da 6.000 watt non so io ti ridicono non ho l'età se si voltano un momento io ci rigioco perché perché per te per te per te si affrentano da tu e per me per te per me ti pagino prima nonostante per te per me per te per te per te per me per te come come le ducati e le ducati si portano per te per me ti rispuno per te per te Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto chi lo sa Che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è e ce ne sarà Ho messo via un po' di cose ma non mi spiego mai perché Io non riesco a mettervi a te Non riconobi il tuo sguardo in quello di un passato Ma pure avendoti qui ti sentirei distante Ho messo via un po' di legnati, i segni quelli non si può Che non è il male nella botta ma purtroppo il livido Ho messo via quel po' di foto che prenderanno polvere Sia su rimorsi che rimpianti che rancori e sui perché E ti scorderai di me quando piove profili e le case ricordano te E sarà bellissimo perché gioia e dolore ha lo stesso sapore con te Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse E tutto ciò che hai di me il corpo non tornasse E poi amore tutte le attenzioni che sai dare E vuoi differenza se mai qui vorrai venire Non basta più il ricordo Ora voglio il tuo ritorno In queste scarpe su questa terra che dondola, dondola E sarà bellissimo perché gioia e dolore ha lo stesso sapore, lo stesso sapore con te E io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse E tutto ciò che hai di me il corpo non tornasse E poi amore tutte le attenzioni che sai dare E poi indifferenza se mai mi vorrai venire E poi indifferenza se mai mi vorrai venire Grazie Marco Bravi bravi veramente Venite un po' più avanti Cristel vai da quella parte Lasciamoli in mezzo anche perché sono due artisti che evidentemente hanno fatto Una performance che a noi è piaciuta tantissimo Vi dirò di più Cristel mentre facevate questa performance mi guardava e faceva così Come per dire sono veramente bravi ma lo lascio dire a lei anche perché sicuramente In quanto a musica può esprimersi Purtroppo mio fratello mi fa ti piace andare in Sila e stare scoperto Ecco qua contento Il periodo in cui si deve andare alla neve in Sila Ho fatto due tamponi per sicurezza non puoi dire ieri quindi negativi e fortuna Però non volevo dare buca perché sono uno che quando da la parola la porta fino alla fine Sicuramente il nostro allenato l'apprezzerà Quando la mia parola la mantengo sempre è difficile che Ti abbiamo già apprezzato in un'altra situazione sei veramente una persona una gran bella persona Oggi ci hai fatto conoscere Marco e non Mario come direbbe qualcuno e quindi noi siamo altrettanto felici E se posso fare una battuta a Daniele che adesso ci raggiunge Loro sì che hanno fatto una dedica a Cristal con questo brano perché hanno dedicato alla mamma Al papà e quindi tu invece che dedica gli fai a Cristal Arrivano anche i complimenti sui social perché lui continuamente lì Chiedo scusa anche sui social per la mia voce che è andato bene Non ti preoccupare quindi adesso viene però il bello perché adesso vi dovete conquistare dei regalini Dei nostri sponsor che ribadisca ancora una volta sono dolcemente questa splendida Questa splendida attività che tratta la vendita di dolciumi e di tantissime altre situazioni belle Che noi abbiamo potuto appurare entrando in questa attività Io quindi saluto la signora Raso il marito Ivan che sono stati gentilissimi a consegnarci questi regalini Che noi speriamo di potervi consegnare sicuramente attraverso queste domande Prima il calcio e poi Cristal Li portiamo in Francia quindi Andiamo in Francia Due partite della Francia Nizza Clermont Allora Nizza 2 a 0 Nizza Lui è stato deciso subito quindi segue il calcio mi sa La tua squadra del cuore Giocava stasera Gioca stasera quindi La Juve chiaramente Juve col Verona Sì E come finisce questa non è in gioco però eh Guarda se la Juve giocasse come dovrebbe in base a giocare Giocatori potrebbe fare tranquillamente un 3 a 1 secondo me a occhi chiusi Quindi Se giocasse in base ai giocatori In questi ultimi tempi non sta andando alla grande però Purtroppo no Vediamo con Braovic che succede Perfetto Il Nizza quindi vince 2 a 0 Vediamo Marco cosa dice invece per la sua di partita Strasburgo Nantes Eh sempre in Francia siamo eh ha detto Fai 1 a 0 Nantes 0 a 1 quindi 0 a 1 Perfetto Memorizzatele questi risultati perché è importante Adesso Ci vediamo dopo Ciao Grazie Daniele sempre Grazie Allora La T il 500 No il 600 Sei stato proprio Vabbè non hai riflettuto Marco vediamo se recupera lui con la sua domanda Vediamo un po' Allora per il nostro Marco e non Mario Il Nuovo Testamento comprende i quattro Vangeli Gli Atti degli Apostoli L'Apocalisse E A L'Epistole di San Paolo B I Vangeli Gnostici C L'Imitazione di Cristo B No era A L'Epistole di San Paolo No ma io non sono Non siamo riusciti a farvi vincere un regalo Mi spiace purtroppo le domande Per farvi avere qualcosa sicuramente Non sarà felice mio padre di questa cosa Sì E quindi dobbiamo Il professore Santo Ah ma tu sei figlio Eh sì Vedevo una certa somiglianza però Posso fare Non mi sono permesso di dirlo perché non volevo Posso fare un annuncio che non rientro a casa Addirittura glielo dici in diretta Glielo dici in diretta Papà non rientro a casa Io dove ne ha perdonato La domanda sulla religione l'abbiamo mai Approfitto per salutarlo Abbracciarlo forte anche io Perché con lui abbiamo fatto anche qualche trasmissione Nel passato poi siamo amici Ci incrociamo sul corso Quindi un abbraccio forte a lui Alla tua famiglia Allora complimenti Non sapevo di questa tua dota È la prima volta mi sembra che ci vediamo Quindi non sei venuto altre volte Condasco invece non è la prima Non sarà l'ultima Ci saranno altre situazioni Spero di potervi rivedere ancora una volta insieme E quindi grazie per essere stati con noi Grazie a te Renato Grazie di cuore Grazie veramente Magnifici artisti Appoggiate pure lì Così consegnate poi il microfono E noi Cristal Io richiamerei nuovamente il nostro maestro Che non è che se n'era andato Perché qualcuno aveva pensato Me ne vado No È lì È ritornato E quindi io lo richiamo Lo faccio venire in mezzo a noi Anche se stavolta arriva Con qualcosa in più nelle mani Stiamo sanificando l'altro microfono Perché man mano che gli ospiti ci lasciano Noi abbiamo la sanificazione Ecco perché si perde un po' di tempo Però il nostro maestro è già di nuovo qui Come aveva promesso Ha portato qualcosa dietro Non so che cosa Veramente mi hanno bloccato alla porta Addirittura Mi hanno detto Da qui non puoi scappare Devi assolverla Abbiamo provato a chiamare Ormai siccome mi stanno seguendo E tutti non rispondono Perché hanno paura di Ma non è vero Se tu glielo dici A chi chiami È chiaro che non ti rispondono Ma non rispondono al telefono Quindi invece abbiamo pensato Siccome abbiamo parlato fuori con Il carissimo Alessandro Il nostro cantautore Lametino Diciamo Perché è dell'Interland Si Si Quindi abbiamo pensato Di fare il nostro pegno Di pagare il nostro pegno in musica In musica Solo che per fare tutto questo Noi dobbiamo organizzarci Perché hai visto in diretta cosa succede Quindi abbiamo bisogno Di dare la possibilità Ai nostri operatori Di gestire questa cosa Voi di che cosa avete bisogno Anche perché ormai ci siamo abituati Che dovete fare Un minuto è il tempo che lui possa collegare la sua chitarra Allora facciamo una cosa Intanto questo lo possiamo fare dopo Mi dicono dalla regia Perché non possiamo improvvisare così Perché già prima Abbiamo avuto questo intoppo con i microfono Quindi bisogna organizzarlo per bene Io quello che voglio C'è organizzazione Però quello che mi deve fare è la telefonata Ma perché non me la vuoi fare oggi Ma non ho capito Ho provato anche dietro le quinte a chiamare No assolutamente Ma chi hai chiamato? Ho chiamato degli amici che ormai mi stanno seguendo Ma io ce l'ho uno Vedi qua Vediamo se riesco a farti fare questa No e non te ne vai qua Io oggi mi sono messato questa cosa E te la devo far fare Ma no il nostro relato non prepara mai niente Allora tu però non ti devi Io ti faccio il numero È un amico tuo questo Vediamo se si sente Ti avvicinano Vediamo lì al microfono Ma lascia stare Viva oggi Siamo a STV qua Dai Vedi un po' se Ecco non risponde Questo è già una cosa È un segno quindi che purtroppo Non possiamo contattare Signori Grazie Buon proseguimento Allora tu te ne vai e ti organizzi con l'altro amico per poter fare questo brano Parla con gli operatori perché non vorrei che nella diretta poi ci capita questa situazione Perché noi sì facciamo le cose senza prepararle e questo lo sanno i nostri telespettatori Che la prova ha provato Però per fare questa situazione ti devi mettere d'accordo con gli operatori E poi tornate Va bene Ok Permesso Allora cara Cristel come vedi noi abbiamo sempre i nostri amici che sono lì e io vorrei Che tu andassi a vedere come stanno e come stanno vivendo questa situazione Precedentemente stavo notando già il lavoro eseguito dal nostro Patrick sulla nostra Jessica E sta appunto preparando questo semi raccolto ho visto anche il cambio di piastra vediamo La piastra per fare le onde ma ovviamente questo lo spiegherà lui perché chi meglio di lui Allora questa non è una piastra onde scusa il rimprovero ma è un ferro a cono si chiama che verranno delle onde dove io dopo le andrò a spettinare dove ci sarà un bel movimento e alzerò qualche ciocca e diventerò un semi raccolto Senz'altro allora io vi invito di seguire il nostro Patrick per acconciature ma non solo non ne uscirete scontente ma questo lo vedremo in seguito Grazie grazie assolutamente sì allora lasciamoli lavorare vieni Cristel ed io se il nostro Daniele mi raggiunge voglio che possa portare a termine questo suo desiderio Lui aveva un desiderio la settimana scorsa me ne aveva già parlato ed io non posso fare a meno di farglielo realizzare Arrivano i complimenti anche per il presentatore non è un lavaggio di farce Troppo buoni troppo buoni grazie ma non ci perdiamo perché il nostro Daniele oggi ha un desiderio che voleva realizzare Me l'ha detto la settimana scorsa ma diciamo intanto a beneficio dei nostri spettatori che ci seguono che cosa vuoi fare? Allora io siccome è il compleanno di Claudia quindi non ho fatto gli auguri all'inizio perché volevo fare un augurio speciale alla nostra Claudia per questi suoi 32 anni le voglio dedicare una canzone Così? Così Ma sei sicuro che lei ti stia guardando? Non lo so io l'ho detto seguimi perché domani ti dedicherò una canzone quindi non lo so se adesso in questo momento è collegato tanto noi dovremmo le repliche Sì no no perché se ti sta seguendo sicuramente il minimo che può fare appena finisci il brano prendere il telefono e ringraziare Sempre che la tua canzone sia una canzone che il maestro già mi sta guardando non lo so che cosa mi vuole dire con quell'espressione E la voglio dedicare anche a Cristel A Cristel per riparare Per riparare alla barzelletta di prima Va beh il titolo lo possiamo sapere Il titolo è Miele di Gigi D'Alessio Per fare tutto questo tu di che cosa hai bisogno? Di prendere subito il microfono e di prendermi la scena Allora cominciate a prendere il microfono così io e Cristel intanto tu come la vedi sta cosa? Guarda Dimmi sinceramente perché vedi Daniele è così gli viene in mente di fare una cosa e poi si organizza e la fa Inizialmente ho avuto un po' di paura però peggio della barzelletta di prima non si potrà fare No infatti ma forse nemmeno la canzone perché se ci mette mezz'ora a prendere un microfono Figurati quando noi arriviamo No 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 è arrivato è già arrivato con il microfono Quindi maestro lo possiamo far partire? Sì? Allora il maestro mi ha dato l'ok vai 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 Infatti ve lo volevo dire no? Ha sbagliato microfono quindi è il minimo che possa succedere Ci sei adesso? Vai 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 Una come te l'ingranaggio esatto che sta bene a me caratterino acceso, una come te un dosatore giusto, zucchero e caffè sai darti bene quando leggi che il tuo segno vincerà una come te, un'equazione al punto, logica per me farà studiare bene, una come te una poesia d'amore dedicata a me e sei dolce quando baci, sembra tutto come miele e si attacca il cuore, ma si scioglie al sole quando vuoi di più miele e poi diventa sale se siamo in riva al mare e un'onda ci accarezzerà miele, questo è il tuo sapore quando devi andare, quando non ci sei miele, sei bella da morire ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te te una come te la grinta di un felino hai graffiato me che splendido sorriso una come te unita come l'aria acqua fresca che diventa dolce quando baci e tutto intorno sa di miele miele e si attacca il cuore, ma si scioglie al sole quando vuoi di più miele e poi diventa sale se siamo in riva al mare e un'onda ci accarezzerà miele, questo è il tuo sapore quando devi andare, quando non ci sei miele, sei bella da morire ma hai fatto innamorare col gusto che c'è in te miele e poi diventa sale se siamo in riva al mare e un'onda ci accarezzerà grazie noi ti facciamo l'applauso però io devo chiedere a Cristal perché sicuramente Claudia non telefonerà perché probabilmente secondo me avrà chiamato anche Gigi D'Alessio per scusarsi no, io pensavo che avesse chiamato veramente il 100 il 112 no, no, no non c'è va bene, allora Cristal come l'hai sentito? però devo dire che mi ha un po' stupito sai Renato non te l'aspettavi forse così non me l'aspettavo, esatto, esatto però avrà apprezzato Claudia sicuramente ma come ho apprezzato io forse meglio delle barzellette devo dire anche quindi dedicati di più al canto sì, intanto abbiamo un collegamento vediamo pronto pronto mi sentite? attenzione proprio in questo momento la Messia Terme sta attaccando qui a Castrovillari attenzione con Abercon che cicca la conclusione è il gol questa diventa è arrivato Valentin Abercon Valentin Abercon ha realizzato in questo momento la rete del 3-1 per la Messia Terme proprio mentre il nostro collegamento andava in onda quindi Valentin Abercon è riuscito è riuscito a realizzare la rete del 3-1 che contente dunque la Messia Terme di mettere in cazzaforte quando siamo 5 al minuto 3-5 di mettere in cazzaforte questo risultato dicevamo dunque la Messia Terme che si porta sul 3-1 in virtù dei gol fatti nel primo tempo al sesto minuto da Selandria e poi il raddoppio al trentesimo Giovanni cos'altro aggiungere? siamo super felici di questo collegamento non poteva andare meglio un gol in diretta non poteva andare meglio è stato un collegamento fortunato il vostro è stato un collegamento fortunato siete capiati proprio nel momento in cui la Messia ha messo la partita sul 3-1 quindi il gol di Valentin Abercon ripeto mancano circa 10 minuti alla fine della partita e al momento il parziale è di 3 gol a 1 per la Messia Terme Giovanni ci vediamo domani sera per la nostra sportivamente che riprende quindi un abbraccio forte e buon rientro ciao grazie grazie un abbraccio grazie a domani ciao Daniel allora è entrato prima il maestro vedi sempre di musica e ha fatto il 2-0 ho cantato io la canzone 3-1 la Messia non è a caso se mi chiami dopo ne canto un'altra così fai il 4-1 non ci basta il 3-1 non ti sforzare va bene già così basta così non andiamo il 3-1 la chiudiamo e non vogliamo andare oltre te ne puoi anche andare ci vediamo nel finale ci vediamo dopo faccio avere qualche altro risultato perché vogliamo sapere come stanno andando le altre partite allora Cristiano caro Renato vedo che è una tradizione ormai le squadre di calcio segnano sempre durante la diretta di STV ed è vero che STV porta bene meno male meno male noi siamo stracontenti perché questa della FC La Mezza era una partita veramente difficile e importante era opportune realizzare un risultato in quel di Castrovillari che è un campo sicuramente abbastanza difficile e ostico mi pare che il Castrovillari stesso sia andato domenica scorsa a pareggiare fuori casa con una squadra altrettanto forte quindi questo risultato della nostra FC La Mezza raggiunge il doppio veramente risultato scusate la ripetizione Stefania ci sei? Sì Renato buon pomeriggio Allora fammi capire come sta andando questa vostra partita lì al Gianni Renda il risultato intanto? Sì il risultato è di 3 a 1 per il San Biave in questo momento quando siamo più o meno al ventesimo o venticinquesimo quasi della ripresa ti riepilogo il gol al venticinquesimo del primo tempo il avvantaggio della vigora con Bucina quindi al trentaquattresimo il pareggio della San Biasa con Pellegrino nei minuti di recupero o meglio subito dopo il gol di Pellegrino il pareggio di Pellegrino due minuti dopo al trentasesimo il San Biasa è rimasto in dieci è stato espulso Fortuna per un calcio da dietro all'indirizzo di un avversario nello specifico di Bucina quindi San Biasa in dieci dal trentaseiesimo minuto nel recupero del primo tempo al quarantasesesimo è arrivato il 2 a 1 della San Biasa con Angotti e al sedicesimo della ripresa ancora Angotti per il 3 a 1 dei giallorossi Stefani è risultato che il San Biasa merita nonostante praticamente l'handicap dell'uomo espulso sì assolutamente sì era partita dobbiamo ammettere la partita meglio la Vigor mostrando di essere più quadrata poi però il San Biasa ha preso le misure alla distanza è decisamente venuta fuori la squadra di Gallo risultato sì ci sentiamo di poter dire abbastanza giusto la Vigor non sta demeritando però in questo momento soprattutto dopo che è rimasta in superiorità numerica ha fatto poco per provare a vincere la partita bene Stefania mi dicevi ad inizio di collegamento che c'è uno stadio Gianni Renda che è completamente gremito mi confermi ancora una volta che stanno seguendo questa partita tantissimi tifosi sì allora completamente gremito ovviamente per quella che è la capienza attuale capienza al 50% per le normative covid quindi capienza limitata però i posti che c'erano a disposizione sono tutti occupati sì assolutamente c'è una bella cornice di pubblico e sta filando tutto liscio sia in campo che in spazio Stefania ancora una cosa dopo ti lascio questo risultato tu che hai davanti sicuramente le classifiche a che punto porta il Sambiase e a che punto poi resta la Vigor chiaramente non ho presente quali sono i risultati degli altri campi sicuramente con questo successo il Sambiase accorcia sensibilmente sulla Vezza perché sale a 25 punti la Pilipor che era in terza prima di questa partita con 27 punti quindi si porta due punti dalla Vezza il Sambiase in un certo senso riapre un po' i giochi per la vittoria finale non so cosa si è facendo in questo momento il Vivongi né tantomeno il Pargheli a dire la verità però sicuramente è discorso sempre più aperto in Vezza è chiaro che un'eventuale vittoria mi dicono che il Vivongi sta vincendo quindi Vivongi che sale in terza alla classifica con 28 punti però il Sambiase che ha 25 sicuramente accorcia in maniera sensibile e si rimette in gioco per le primissime posizioni quindi resta un campionato aperto dove può succedere di tutto e di più ancora vero Stefania? Sì ancora sì che quella di oggi è l'ultima giornata del girone d'andata quindi ancora siamo in piena porta per può succedere di tutto quindi è ancora lungo lunghissimo il campionato di prima categoria Perfetto Stefania ti ringrazio sei stata gentilissima con questi tuoi contributi quindi in bocca al lupo e grazie ancora di cuore grazie Grazie a te Renato buona trasmissione Allora Cristel come vedi abbiamo più o meno due risultati che si come si equivalgono se posso usare questo tema perché c'è un 3 a 1 dell'FC Lamezia in quelle di Castrovillere c'è quest'altro 3 a 1 al Gianni Renda quindi due risultati quasi identici detto questo noi possiamo chiudere sicuramente questa seconda parte di questa domenica speciale e per farlo non possiamo che passare la palla al nostro maestro che è già in pole position maestro intanto come stiamo vivendo questa domenica speciale abbiamo avuto degli artisti voglio sentirti anche un po' su questi artisti che sono stati nei nostri studi hanno fatto un bel percorso in quel di Sanremo giovanissimi però già abbastanza in gamma devo dire che oggi come oggi tutti quanti ci affacciamo con il microfono alle mani a cantare ebbene io sto notando dei particolari che ognuno di noi abbiamo diciamo una linea ben diversa uno con l'altro è veramente bello questo qua vederli in un modo diversi tra di loro non sono delle copie diciamo sono artisti che stanno uscendo alla ribalta con delle novità e queste novità per me è positivo è ottimo detto dal nostro maestro che ha un'esperienza veramente fa piacere sentire questi complimenti per i nostri giovani regalaci quest'altro brano per farci giudere la seconda parte ci sei maestro cosa vuoi fare vediamo dunque io vorrei omeggiare un gruppo che negli anni 70-80 la maggior parte delle persone sono innamorati con queste canzoni di questo gruppo parlo dei tippisti dei sogni è bellissimo allora io ho scelto anche perché loro hanno un repertorio molto vasto ho scelto un brano bello melodico se tu l'amore ti ascoltiamo vai vai maestro fortunato la tua faccia è sempre triste i tuoi occhi sempre freddi hai distrutto un brano ma perché non hai pietà non hai pietà di me hai distrutto questo amore hai distrutto la mia vita ma lo sai che non è vita stare qui senza di te sei tu l'amore sei tu l'amore della mia vita hai tu il mio amore se non lo vuoi per me finita ti prego amore non mi rilasciare non ho l'invita dovevo ancora da me tornare per tutta la vita io sono qui che aspetto a te poco bello aspetto a te so che tu non tornerai non tornerai da me hai distrutto questo amore hai distrutto la mia vita ma lo sai che non è vita stare qui senza di te sei tu l'amore sei tu l'amore della mia vita hai tu il mio cuore se non lo vuoi per me finita ti prego amore non mi lasciare non ho l'invita tu devo ancora da me tornare per tutta la vita sei tu l'amore sei tu l'amore della mia vita per la mia vita è il tuo mio cuore se non lo vuoi per la mia vita per la mia vita dove vai mi fa piacere che i giovani di oggi apprezzino anche queste canzoni del passato perché restano veramente nella storia e quando si cantano provocano sicuramente delle emozioni almeno a me poi ognuno vive a modo suo le canzoni a proposito prima di chiudere questa seconda parte anche perché Cristal sarà una di quelle protagonistiche voi potrete vedere domenica prossima in questo gran galà se Pietro mi passa cortesemente la locandina che prevede questo concorso casting di bellezza nazionale stars nuove stelle per lo spettacolo eccola lì questa è la locandina io voglio ricordare che il nostro patronno Marino Anzani Ciliberti che si confronterà con quella che è l'organizzazione della nostra emittente STV per tutto quello che riguarda praticamente l'organizzazione posso anticipare che Patrick che alle nostre spalle pettinerà sicuramente anche alla nostra carissima Cristal insieme a tutte le altre miss Cristal allora come si sta vivendo questo momento manca una settimana dai manca una settimana una settimana che sarà in fermento non vedo l'ora anche perché purtroppo con questo periodo siamo stati bloccati è stato impossibile effettuare altre sfilate ed eventi quindi come ripartire col botto e speriamo bene sarà sicuramente una bella esperienza poi verremo trattate come delle principesse se verremo sistemate acconciate dal nostro Patrick che vedo che sta eseguendo il lavoro e magari successivamente quando finirà potremo la prima parte andremo a trovarlo però io prima di chiudere questa seconda parte una domanda per metterti in difficoltà te la faccio io non preparo niente mi è venuta in mente allora tu oggi stai facendo la conduttrice hai fatto invece la modella sei stata dell'età miss in che cosa riesci secondo te meglio e che cosa ti piace di più allora la parte che mi piace di più è la conduzione perché comunque sfilare è anche bello però un po' passivo perché sei tu che devi valorizzare l'abito o comunque ciò che indossi o andare a concorrere per un ideale di bellezza che poi è molto soggettivo ognuno ha i propri canoni quindi non esiste una bellezza effettiva ma è agli occhi degli altri ognuno ha i propri gusti mentre nella conduzione combini è un connubio tra la propria cultura la propria personalità e ovviamente anche poi quella che è l'aspetto fisico quindi preferisco senz'altro la conduzione la conduzione questo è un dato di fatto che ce l'ha detto in diretta alla nostra Cristel e io ritengo che lei possa fare tranquillamente questo ruolo alle carte in regola seppur giovanissima come vedete si propone con un garbo con uno stile non lo dico per fare la sviolinata ma perché tutti voi che state seguendo da casa potete apprezzare potete giudicare quello che effettivamente la nostra Cristel riesce a fare in veste di conduttrice di presentatrice io ti auguro Sanremo e di solito Renato porta bene e quindi vedremo vedremo un giorno forse poi mi saluterai da Sanremo va bene staremo a vedere sempre con i piedi per terra e cercare di raggiungere i propri obiettivi con le proprie forze sempre tu ce l'hai questa dote che è l'umiltà che è quella cosa che fa raggiungere sempre gli obiettivi quindi te lo confermo in diretta quindi vai tranquilla così come tranquilli andiamo noi adesso in questa pausa e vi lasciamo solo per pochi minuti perché poi ritorneremo per il gran finale ci ha raggiunto un ospite veramente importante che vi preannuncio è il nostro dottor Pietro Gatto che è presidente della Nicola Sagrini con il quale parleremo di questa bellissima questa bellissima manifestazione che sta organizzando qui alla Mezzeterme ma lo lasceremo dire a lui fra poco pochissimo va bene Cristel? a fra poco grazie a fra poco i prodotti alimentari hanno bisogno di essere conservati con cura devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dagli spazi di temperatura con materiali igienici resistenti e magari ecosostenibili come il vetro facile da modellare e personalizzare mentre una buona chiusura allunga la conservazione permettendo ai prodotti di essere distribuiti con calma e in tutta sicurezza Arpaia tu produci noi conserviamo S-Carni SRL e Carni Genuine salumi artigianali di produzione propria preparati di carne su richiesta S-Carni SRL e in via del progresso attraverso Abate dei Grandesnil alla mezza terme telefono 0968 23 990 S-Carni SRL Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nuova acconciatura di semiraccolto con onde morbide. La facciamo girare così si vede meglio a beneficio di telecamera. Eccola qui. E questo è il semiraccolto, la seconda acconciatura. Facciamo fare una piccola sfilata, la facciamo arrivare fino a lì, dai, è troppo bella, dai. Eccola qui, brava. Fermati, fermati adesso così ti inquadrano bene, ti puoi anche girare, così si può apprezzare tutto quello che è stato il lavoro del nostro Patrick. E la nostra deliziosa Jessica che è stata una modella, lo lascio dire a te, perfetta? Una modella eccellente, con dei capelli magnifici, dispiace solo che non è una mia cliente, ma io comunque non dico nulla perché tra colleghi ci vogliamo tutti quanti bene. Però ha dei capelli magnifici, 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 magnifici. Perfetto. Allora Jessica, grazie di cuore per essere stata con noi, ci sentiamo presto per quel progetto che abbiamo fatto e quindi ti lasciamo andare perché ci sono impegni sportivi. In bocca al lupo, alla prossima. Grazie mille, buona serata. Patrick, grazie anche a te, a dopo. E noi, cara Cristel, ci spostiamo subito da questa parte, rimanendo qui e lasciando la scena a questi due magnifici artisti. Ritorna Alessandro col maestro Tiziano, hanno improvvisato qualcosa, tanto loro lo sanno. Noi andiamo in diretta e improvvisiamo, vediamo cosa ci regalano. Vai! Hey Mr. Really, dimmi quella storia come Hey Mr. Really, racconta quella storia come Quando dall'inferno hai salvato la tua amata Lucy Hey Mr. Really, dimmi quello che vuoi Hey Mr. Really, suona tutto quello che vuoi Quando dall'inferno hai salvato la tua amata Lucy Hey Mr. Really, dimmi quella storia come Hey Mr. Really, blues boy, come non mai Hey Mr. Really, blues in tutto quello che vuoi Quando dall'inferno hai salvato la tua amata Lucy Hey Mr. Really, blues in tutto quello che vuoi Hey Mr. Really, hey 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 Hey Quando dall'inferno hai salvato la tua amata Lucy Bravi, bravi, bravi veramente, complimenti e grazie, grazie a nostri due maestri e portatevi via il tutto, grazie ancora così ci lasciate la scena e noi nel ringraziare questi due maestri che hanno improvvisato ringraziamo soprattutto la regia e gli operatori che evidentemente consentono di poter fare la scena. Per fare anche queste cose in diretta. Quindi chiamiamo l'ospite che avevamo preannunciato perché lo vedo è già di fronte a noi. Si tratta del dottor... Il dottor Pietro Gatto, presidente dell'associazione Nicholas Green. Eccolo qua, vieni, vieni, vieni Cristal, facciamolo mettere in mezzo. Vieni, vieni. Caro dottore, ben ritrovato, come stai? Ti vediamo in bianco nero e significativo oppure non c'entra niente il colore? Benvenuti intanto. Il colore non c'entra niente, il mio colore preferito è bianco verde e bianco blu, la nostra città. Bene, bene, bene. Allora Pietro ci siamo lasciati qualche mese fa, ci ritroviamo anche se questa pandemia sta limitando tantissimo la tua meravigliosa attività, la tua passione che ormai tutti i nostri telespettatori conoscono, però c'è il tempo per riprendere e per organizzarci subito per una prossima. Vogliamo parlare già di questo oppure mi vuoi dire altro? Io direi per l'appunto abbiamo fatto di recente la panoramica il 14 novembre, periodo autunnale, anche se nel periodo pandemico con tutte le restrizioni dovute alla pandemia, stiamo organizzando per domenica prossima un grande evento. Eccolo lì, il nostro Pietro già parte con la locandina e ce la presenta, vai. Sì, grazie. Quindi ospiteremo un campionato, un campionato regionale di corsa campestre, molto bello, dove verranno qui atleti da tutte le squadre della Calabria e si disputerà all'interno, ecco questa è bellissima quell'immagine, nei secolari uliveti dell'azienda Stati. Ecco, guardate, questa è una foto di qualche annetto fa, un paio di anni fa antepandemia, come l'uliveto viene trasformato in campo di gara, è molto bello, affascinante. Le piante di uliveto sono millenari, ragazzi, cioè andare lì dentro e partecipare, calpestare, perché proprio la corsa campestre è una tipologia di gara, una tipologia di disciplina atletica che si percorre sullo sterrato, sull'ambiente erboso, cioè su un'orografia di territorio naturale, cioè dove l'atleta può manifestare, diciamo, tutte le sue specialità tecniche proprio in questo ambiente erboso. Posso confermare quello che hai appena detto, anche perché abbiamo fatto questa esperienza, mi pare, un paio di anni fa, prima che questa pandemia ci aggredisce? Sì, l'abbiamo disputata il 22 febbraio 2020, proprio alle porte della pandemia, cioè il primo marzo è partita la pandemia e noi qualche giorno prima abbiamo fatto questa gara. Quest'anno è ancora più importante rispetto all'edizione precedente, più importante perché sarà una prova unica, un campionato regionale di società, prova unica per tutte le categorie. Quindi parliamo dei bambini di 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni, i ragazzi, i cadetti, gli allievi, gli assoluti promozionali. Ti chiedo perdona, ma anche le donne, può partecipare anche alla nostra Cristel? Sì, 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 sì. Assolutamente sì, è maschile e femminile, ci tengo di più anzi a dirlo, visto che mi hai introdotto già la specialità, le premiazioni saranno i primi tre per quanto riguarda il genere maschile e le prime tre per quanto riguarda il genere femminile, per tutte le categorie. Perfetto, bellissimo, intanto complimenti Cristel, che dici? Accelera ancora sulla premiazione, perché oltre alla premiazione individuale che c'è per i primi tre sul podio, ci sarà anche una premiazione per le società, perché il campionato è un campionato di società. Quindi per tutte le categorie sono 18 premiazioni di società maschile e femminile, quindi a partire dai ragazzi, dai cinque anni, ci sarà una società che sicuramente si aggiudicherà il primo posto, il secondo posto, il terzo posto per la categoria dei cinque anni, gli esordienti cinque, sei anni, e poi maschile e femminile, ovviamente, poi ci saranno sei anni, sette anni, ragazzi, cadetti, allievi, assoluti, juniores, seniors, master 35, master 40, 45, master 50, master 55, master 60, insomma ci saranno premi per tutti, tutti gli uomini, tutte le donne, insomma che sono ovviamente, perché questa è una gara di campionato, è una gara agonistica, devono essere tesserati in un'associazione sportiva, quindi devono avere tutti i requisiti tecnici possibili e immaginari per poter partecipare. Allora, intanto a che ora avrà inizio questa manifestazione, perché noi saremo presenti con le nostre telecamere, e cureremo praticamente tutta quella che è la parte organizzativa per quanto riguarda le immagini, l'audio e via dicendo. Allora, all'inizio della gara, la prima batteria di gara parta alle 10.10, ovviamente il ritrovo con giuria, concorrenti, televisione alle ore 9, per cui Renato... Sì, mi alzerò presto, farò le ore... Prima arriva meglio è così, avremo la possibilità di inquadrare prima il panorama, la scenografia, mi auguro che il tempo ci dia clemenza, così come ce l'ha dato già nella panoramica di primavera, per poter dare il massimo dell'ospitalità a tutte le squadre che vengono da tutta Calabria. Allora, consentimi intanto di mandare dei saluti, dei saluti a un magnifico nostro fraterno amico, tuo prima che mio, il dottor Giuseppe Furgiuele, che sicuramente è super impegnato in questo periodo, con questa purtroppo pandemia, ci siamo sentiti proprio l'altro ieri, avrebbe voluto veramente essere qui presente, perché è veramente parte attiva di questa organizzazione della Nicola Sagrini, oltre ad essere un fraterno amico del nostro dottore, quindi collaborano ormai da tantissimi anni insieme ed è un uomo che si dedica allo sport veramente in un modo encomiabile, quindi io lo ripeterò, spero, domenica mattina, almeno riusciamo a beccarlo domenica. Spero di sì, chiederemo una petizione popolare per fargli dare una domenica di libertà, io capisco un po' il momento particolare per lui e per tutta la sanità in questo frangente, ma adesso mi sembra, o meno da quanto apprendiamo tutti quanti dalle notizie giornalistiche, che ci sia una certa clemenza, probabilmente si andrà verso questa paventata immunità di Greggio, speriamo, perché così saremo liberi di poter fare le manifestazioni anche qua, in questa saletta di STV. Assolutamente sì, anche perché le dosi le abbiamo fatte, siamo arrivati tutti alla terza, ormai speriamo che non ci farete fare anche alla quarta, comunque noi ci siamo, e quindi stiamo lì per accettare tutte quelle che sono le disposizioni, utilizziamo praticamente tutti i mezzi immaginabili possibili per rendere anche il nostro ambiente, tu lo sai, sei di famiglia, noi facciamo il green pass, l'igienizzazione, la temperatura, insomma si entra e quindi si sta tranquilli che ognuno di noi ha fatto il suo dovere, e così me lo confermi. Assolutamente sì, ci saranno tutte le misure di controllo previsto dal CONI, previsto anche dal decreto, ovviamente dal decreto e dal CONI, che sono state trascritte sotto il profilo specificatamente tecnico, quindi ci sarà il controllo del green pass, base per gli atleti agonistici, e per gli accompagnatori invece il green pass rafforzato, ovviamente il controllo delle temperature e anche l'autocertificazione, cioè i tre sistemi di controllo previsti dal CONI, saranno applicati all'ingresso delle aziende, essendo un ingresso soltanto per cui ci saranno dei vigilanti, dei volontari della protezione civile, proprio per controllare la temperatura, accertarsi che abbiano il green pass. Senza green pass, ahimè, non si può partecipare, menudo che ci poniamo ancora questa domanda, perché lo sappiamo tutti quanti, l'abbiamo oramai immaturato dappertutto. Cristal, abbiamo parlato oggi tantissimo di calcio, stiamo facendo il gran finale con la corsa, con la podistica. Come sei messa con questo sport tu? Ti è capitato di fare qualche corsetta, qualche volta? Innanzitutto è la seconda volta che ho questo onore di stare a contatto con questo dottore e presentavo anche, sì, durante… Ma pensa un po', guarda, non ricordavo questa… Sì, quando è stata esposta alla panoramica primaverile c'era anche il dottore. Hai visto, hai visto. Comunque lo sport è importante, salute, quindi benessere fisico, mentale, sociale, poi un'occasione comunque di rinizio, perché purtroppo siamo stati anche nello sport sacrificati, io effetto danza da piccolina, quindi anche il mondo della danza, ahimè, è stato sacrificato, ma speriamo di ripartire presto, visto che le misure di prevenzione si stanno alentando, speriamo, dopo tutto deve finire questo periodo. Dire al nostro Pietro se ha la carica giusta mi sembra superfluo, perché lui in tutto quello che organizza abbiamo qualcosa in comune, noi ci crediamo in quello che facciamo e ci mettiamo veramente il cuore, e lui sicuramente in tutto quello che fa ci mette il cuore, la passione, ma soprattutto la professionalità, perché poi le cose non si possono inventare da un momento all'altro, quindi c'è dietro veramente un lavoro che lui fa e quindi l'ultima panoramica che abbiamo fatto credo che abbia avuto grandi consensi e grandi veramente complimenti da parte di tutti, è così, me lo confermi? Almeno il rumore che mi è pervenuto è stato molto positivo, è inaspettata una partecipazione della città in maniera molto attiva, nonostante tutti i controlli un po' stancanti, distanziamenti, le mascherine e quant'altro ci sia, però ahimè la gente ha partecipato con grande entusiasmo. Penso che dello sport si possa dire tanto, la signorina ha citato in maniera molto ampia il concetto di sport, ma se la regia mi manda quella foto dei due bambini, veramente vorrei far notare che cos'è il potere dello sport. È bellissimo questa foto, grande, grande, grande Pietro. Ecco questa è una foto dei campionati regionali del 2020, sempre presso l'azienda Stanti, grazie alla regia che mi ha portato questa foto, ecco il campo di gara com'è bello e questi due bambini tutti e due al traguardo che arrivano e si abbracciano, ma da notare che non sono due bambini normali, sono due bambini, uno di colore e uno bianco, dove noi specialmente negli ultimi anni abbiamo vissuto un po' traumatica questa parte dell'accoglienza dei ragazzi di colore, invece guardate che entusiasmo e che amore, è come lo sport possa unire, veramente possa tanto dare legame, socializzazione e coesione. Purtroppo, ahimè, questo è un campionato regionale, non possiamo ospitare tutta la popolazione per come lo facciamo alla panoramica, non è possibile perché è un campionato regionale dove ci sono delle competizioni, ci sono dei traguardi da raggiungere, ci sono delle mete da raggiungere, dove ci sarà poi una classifica che sarà stilata a livello regionale, per cui, ahimè, non posso invitare la società, come pubblico sì, possono venire, purché muniti dai requisiti minimi di controllo dovuto alla pandemia, quindi il Green Pass rafforzato, perché per il pubblico ci vuole il Green Pass rafforzato, ovviamente mascherine e quant'altro ci sia, poi all'interno l'accoglienza avrà tutti i sistemi di igienizzazione. Assolutamente sì, una gran bella manifestazione che solo la passione, la professionalità e l'amore che ci mette dentro il nostro dottor Pietro Gatto può realizzare. Io approfitto anche per fare due saluti a due personaggi e ti farà piacere sentire i loro nomi perché rappresentano la storia continua che tu stai portando avanti. Franco Cerra e Lino Piricò, un abbraccio forte a questi due magnifici veramente amici. Sì, grandi veramente, mi sono sempre vicino, grande regia dietro le quinte. Mi danno tutta una serie di indicazioni, tale per cui cerchiamo di dare sempre un piccolo passettino di miglioramento rispetto alle edizioni precedenti. Soprattutto Lino e Franco che sono due veterani storici di questa città con decine e centinaia di manifestazioni che hanno nel loro curriculum lavorativo. Io un grazie anche al Presidente Fidel, al suo staff, alla segreteria, il segretario, il Vicepresidente, il Professore Mineo, il Professore Caira, il Presidente e il Professore Mineo, il Vicepresidente della Federazione Regionale Calabria. Quindi, ancora una volta, ribadiamo questi orari per quanto riguarda questa manifestazione del 13 febbraio e lo lascio dire a te, così... Allora, le ore, vediamo un po' se riusciamo a dare qualche notizia in più dal punto di vista tecnico. Le 10 e 10 partono gli esordienti 5 anni, 10 e 20 gli esordienti 8 anni, sono rispettivamente 300 metri 5 anni e 500 metri gli 8 anni. 10 e 30 partiranno gli esordienti 10 anni e 800 metri, 10 e 40 partiranno ragazzi e ragazze per un chilometro e due, 1200 metri, sempre all'interno dell'Uliveto faremo dei percorsi per categoria. Poi 10 e 55 partiranno le cadette e i cadetti per 2 chilometri e 3 chilometri, che partiranno con batteria congiunta e alle 11 e 25 partirà l'altra gara dei master, e partiranno i master oltre, i master over 60 per 3 chilometri, 11 e 50 ancora partiranno gli allievi, gli assoluti, master 35-55 anni per 4 chilometri e poi partirà l'altra gara finale, che gli assoluti di 10 chilometri, la gara individuale, perché questa manifestazione comprende due gare, il campionato di società e il campionato invece individuale. Quindi ci sarà una grande manifestazione, una grande accoglienza che speriamo di farcela con tutte le misure e le restrizioni che ci stanno. Tranquillo Pietro, tranquillo ti vedo carico, l'entusiasmo non mancherà, noi saremo presenti come sempre alle due manifestazioni, scorrono ancora delle immagini che ci vedevano già l'anno, due anni fa, protagonisti praticamente in questa che è stata veramente una bellissima giornata, una giornata di sport che attraverso appunto queste immagini che ci sta passando il nostro Pietro si può anche notare dal volto dei tanti partecipanti che giustamente come ha anticipato il nostro presidente Pietro partono dai più piccolini ad arrivare poi ai master e via dicendo senza aggiungere altro. Quindi Cristal se vuoi puoi farti anche tu una passeggiata domenica e godrai di uno spettacolo veramente che da sicuro è da non perdere. Può venire e ci darà anche una mano operativa dal punto di vista microfonico? Ecco vedi, e ha fatto in diretta l'invito il nostro Pietro, il nostro presidente, quindi poi vediamo un po' come chiudere il cerchio. Pietro, non aggiungo altro, non vedo l'ora di essere insieme a te quel giorno insieme alla nostra squadra di STV, sarà una domenica per noi abbastanza importante perché abbiamo altro anche per il pomeriggio, però la mattina è tutta dedicata a te e alla tua meravigliosa associazione. Ci sarà poi la degustazione finale per misura ovviamente di accoglienza, ci sarà l'azienda Statti che offrirà l'olio sul pane Casareccio che ci offrirà anche l'azienda Il Forno Leonardo, per cui l'acqua Calabria, non la dimentichiamo. C'è di tutto e di più, insomma. Il formaggio Corapic, la degustazione di prodotti tipici sempre nel nostro territorio. Grazie veramente di cuore, Pietro, in bocca al lupo e ci vediamo domenica. Grazie a domenica. Grazie al nostro presidente, grazie veramente. E noi ci siamo, siamo nella giusura, Giovanni, alle 5 meno 10 tu arrivi, vabbè, dai, vieni perché, se no, come devo fare, senza darti il benvenuto, ecco, si presenta dalle 4 alle 5 meno 10, manco al telefono risponde. Mi sono addormentato. Cartellino giallo, vabbè. Ciao, ciao fortunato, mi sono addormentato. Benvenuto, ben ritrovato, hai portato Sanremo qui in questi due minuti. Sono arrivato da Sanremo stamattina prestissimo. Stamattina prestissimo, quindi hai riposato, hai fatto sogni d'oro. Ti chiedo scusa di ritardo. No, figurati dai, il nostro editore mi ha detto che per te allunga anche due minuti. No, no, vabbè, che saluto a tutti quanti. Allora Renato. Niente, dimmi, com'è andata questa esperienza? È andata benissimo, è andata benissimo, un po' più sofferta degli altri anni. Eh, beh, lo credo bene. Perché lo sappiamo, il Covid quest'anno ha penalizzato un po' tutti, gli artisti avevano un protocollo Covid, dicono che non erano intervistabili, qualcuno ci siamo riusciti, qualcuno no. Però noi abbiamo fatto la nostra figura, facendo le dirette tutte le mattine con la nostra segna stampa. Non sei venuto meno all'impegno per onorare i tuoi sponsor. È stata un'altra esperienza, diciamo. Benissimo. Ma io sono andato qua per un'altra cosa, che da domani ripartiamo col programma sportivo. Eh, beh, credo proprio di sì, dobbiamo festeggiare anche un 3 a 1 in quel di Castrovide. Neanche solo il risultato, figurate, abbiamo vinto un 3 a 1. Te lo sto dicendo in diretto, 3 a 1 della nostra Fcc La Mese, e non ti dirò, qualcuno mi sta suggerendo da dietro le quinte, Rana, digliela Giovanni, che tu quando hai fatto il collegamento segnava il... No, io devo dire una cosa, te lo devo riconoscere, tutti gli ospiti che sono stati nella nostra trasmissione, posso dire la nostra trasmissione, hanno fatto, figurate, anche il difensore ha segnato, mancava solo che segnasse il portiere. Diciamo che sono bravi loro, noi facciamo sempre la battuta, che portiamo bene, però noi vorremmo portare bene a tutte le squadre, le società Lamettine e Calabresi, anche perché li ospitiamo con i fatti nelle nostre trasmissioni, quella che sportivamente riprende domani. E la nostra mission, diciamo, di fare per tutte le squadre Lamettine e Calabresi. Noi vogliamo bene a tutti, quindi... Certo, certo. E non mi hai fatto ancora due parole per questa meravigliosa... Stavo guardando che hai cambiato pattern e manca Claudio, cosa è successo? A Claudio l'abbiamo mandata a Ibiza, è andata a festeggiare il suo compleanno a Ibiza, mi hanno detto... D'altronde chi lavora i grossi emittenti, come Canal 5, Rai 1, va a fare le vacanze a Ibiza, non certo come a me a Platania, insomma. Lei ha Ibiza, tu a Sanremo e io alla Mezzia, ma ti sembra una cosa giusta? Ma perché tu sei il pippo a bado di la stessa... No, io sono il vecchio, ormai sono andato, largo e giovane. Vabbè, Giovanni... Compliciamo di chiamere... Cristal. Cristal, è veramente un nome di prestigio, Cristal già te lo dice, la parola stessa. Ma tu fai la selezione, come fai? No, no, assolutamente. Cioè, fammi capire questa medicina che hai così. Cristal è una ragazza che è entrata nella nostra famiglia così. E a prima vista lei ha accettato un invito che noi abbiamo fatto e lei è qui. Tu pensi che noi in questo mese ci abbiamo avuto tre volte, questa è la seconda. Ah, sono con te. Ieri ha spilato qui in questi studi. Brava, brava. Oggi sta presentando, domenica prossima torna a spiolare in un concorso. Bravo, bravo. Non c'entro niente. Bravo, Renato. Giovanni, chiudiamola anche perché siamo veramente nel finale di questa trammissione. Quindi appuntamento per domani sera da questi studi. All'ora 21, sportivamente, riparte. E quindi hanno gesti tantissimi quando si ripartiva. Giovanni è rientrato da Sanremo e adesso possiamo percorrere veramente... La settimana ti porterò un ospite domenica. Sì, me l'hai anticipata di questa meravigliosa ragazza che hai conosciuto a Sanremo. Quindi noi ospitiamo sicuramente quello che evidentemente Giovanni poi ci propone. Va bene, Giovanni? Allora, come diceva Tiziano, suggeriva qualcosa. Tiziano, cosa suggeriva? E i dolci, ormai tu la telefonata non gliel'hai fatta. Avevano preparato di farti una telefonata. Riposata. Hanno fatto bloccare tutti i telefoni. Pensa un po'. I telefoni non andavano più. Nemmeno col mio si riusciva a raggiungere. Ti volevamo fare portare i dolci, vabbè. Ah, vabbè. Li porteremo domani. Ah, vabbè, lo potevi dire oggi a mezzogiorno, mi siamo visti e te li portavo. Hai visto? Fate fare... Tutti e due mi fate fare una pessima figura. Ma non è in modo. Vabbè, comunque ripariamo domani sera quella pizza. Quella non manca mai, vabbè. Certo, quella ci sarà sicuramente. Giovanni. Allora, io volevo soldi da Fortunato. Ogni volta che vada a Sanremo mi manca l'anno di Fortunato. Che bell'anno, sì. 2011, eh. 2011. Io mi ricordo che... Sempre quando c'era Morande, vero? Morande, porto fortuna. Lo posso dire, l'ho fatto cantare sul palco con Morande, lui. Assolutamente sì, ci ricordiamo. Giovanni, il prossimo giorno andiamo tutte e tre. Ce l'hai il microfono? Non stai parlando a buona. No, no, ce l'hai il microfono. Ah, il microfono. Siamo organizzati. Infatti ho usato la voce, giusto per sentirmi ancora di più. Dopo chiudiamo. Quando venne Fortunato con me a Sanremo, fece una settimana strepitosa, perché lo prese RDS, RDS era? No, 105. Ah, 105. Con Marco Carli. 105, e lo volle tutte le settimane in diretta, la mattina alle sette e mezza, che faceva il pezzo. Lo facciamo ritornare il prossimo anno, se Dio vuole. E poi, fu nelle simpatie di Gianni Morande, e Gianni Morande lo fece cantare con lui sul palco, non di Sanremo, eh. Qui è la mese, quando fece il concerto. Assolutamente sì. Quando è venuto al concerto. Quando venne al concerto. Perfetto. Giovanni, a domani sera. A domani sera, vi auguro a tutti. Grazie di essere stato nostro graditissimo ospite. Grazie a te, ringrazio a tutto il CDV, che con molto piacere mi ospita continuamente qua. Assolutamente sì. A domani sera. Ciao Cristale. Ciao a tutti. Buonasera, posso allontanare? Sì, sì, puoi passare il microfono se c'è qualcun altro. Grazie al nostro editore Giovanni De Grazia. E noi Cristale chiamiamo Daniele, anche perché ci siamo, siamo nel gran finale, che noi sicuramente chiuderemo con i saluti ai nostri amici, ma se non prima di aver dato i risultati finali, e vediamo se c'è qualcuno che ha vinto. Allora, vince, devo fare dei saluti, siccome siamo stati molto seguiti dalla Antonella Gallo, Rossita Caparrotta, la nostra Rossita. Che noi aspettavamo in istudio, almeno per un saluto. Assunta, assunta, assunta. Assunta. Poi ci sta seguendo il nostro amico Giacomo, il mio amico Emanuele, veramente sono tantissimi. Meno male, meno male. Siamo super seguiti, fanno i complimenti alla trasmissione, a tutti quanti, alla nostra Cristal, e quindi siamo stati veramente super seguiti anche quest'oggi. Meno male, siamo ben felici. Dico la lista, i risultati finali abbiamo, Castrovilla di Lamezia 1 a 3, Licata Gerbison 1 a 3, Erende a Cireale 0 a 2, Trapani Cittanova 2 a 3, Vibonese Paganese 0 a 0, Olbi Entella 2 a 3, Bologna Empoli 0 a 0, San Pedroio Sassuolo 4 a 0, Venezia Napoli 0 a 1, Nizza Clermont 0 a 1, Rem Bordeaux 5 a 0, Strasburgo Nanto 1 a 0, Troia e Metz 0 a 0. Perfetto, questi sono i risultati, mi pare che non ci sia nessuno che abbia... A proposito di sport, se Renato, se permetti, visto che c'era la cosa dello sport, si diceva che lo sport è salutare e infatti mi ha salutato, mi ha detto già. Vabbè, poi me la rivedo nella replica così riderò un sacco. Così capisci per il piano piano. E capisco bene. Allora, detto questo Cristal, noi siamo veramente ai saluti finali. Io direi intanto un grazie di cuore a te, veramente sei stata splendida, graditissima, così come lo sei stata l'altra volta quando sei venuta. Ci rivediamo domenica, perché domenica sarai in una veste diversa. Quella di oggi mi hai confermato, mi hai detto che è quella che ti piace di più. E quindi non è detto che non ci si possa ritrovare ancora una volta. Hai avuto l'invito del nostro presidente Pietro Gatto anche per domenica, poi tu ti regoli, fai quello che vuoi perché sei libera. E quindi grazie di cuore a te, grazie di cuore al nostro magnifico Daniele, a tutta la nostra splendida squadra di STV. Cara Cristal, hai visto che ci vuole per fare una diretta. La vivi veramente in un modo che purtroppo può capitare il microfono che non va bene, capita qualcosa che non va nel verso giusto. Però a noi piace sempre così, indipendentemente da tutto. La diretta è spontanea, è genuina. Non siamo persone che siamo, siamo così, semplici, umili e ci piace continuare anche su questa strada. Anche se diamo tantissima difficoltà ai nostri operatori, al nostro editore, al nostro regista, però funziona così. Sono degli angeli sempre pronti a rattoppare qualsiasi errore, poi disponibilità massima, poi anche a livello umano, simpatici, buoni. Mi sento veramente a mio agio, quindi ogni volta che vengo qui per me è sempre un piacere. E detto così da te è veramente molto molto bello. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati in nostra compagnia, il nostro Patrick, che rivedremo sicuramente domenica, acconcerà anche i tuoi capelli, oltre a quelli che è acconciati oggi alla nostra Jessica, che ringrazia ancora una volta. Il ringraziamento va anche al nostro maestro, che evidentemente con le sue canzoni ci porta dietro negli anni e ci delizia. A me personalmente mi delizia, poi il resto non lo so, ognuno giudica. E poi mi resta da ringraziare sicuramente i nostri angeli, quelli che ci danno il supporto praticamente per poter portare avanti le nostre trammissioni. Alpaia Claudio e famiglia, grazie amico Claudio, B&B and Breakfast La Mezzia Terme, San Pietro a Maida che è città dell'olio d'oliva, con un saluto al ragionier Bruno Giuliani, Secarni della splendida famiglia Saladino La Mezzia Terme, Dolcemente, che è la vendita al dettaglio di prodotti dolciare, ci ha dato veramente tante cose belle che noi abbiamo dato ai nostri ospiti. Patrick abbiamo già nominato, poi Hotel Paradiso, ristorante via Usi Antica, Falerna. E un ringraziamento al nostro editore, Francesco Santoro, per tutta quella che è la squadra di STV, ai nostri telespettatori, per qualcuno che volesse rivedere questa puntata, stasera alle 20.30, domani alle 14.30. Noi facciamo un passo indietro, Cristel, e lasciamo la scena al nostro maestro, che evidentemente sta cercando di sistemare anche la sua postazione, per trovare il brano finale, e infatti mi ha detto, lo diciamo, non abbiamo segreto, continuo a parlare, perché io intanto mi sistemo, però io non so che cosa dire, Cristel. D'altra parte, noi ormai abbiamo già parlato assai... Sì, vai. Allora, c'hanno due carabinieri... Sì, appunto, ti mancava, dai, vai. Due carabinieri che stanno facendo un servizio per l'arma dei carabinieri. Allora vanno in un hotel, allora quello dell'hotel gli fa, scusi, dice, guardate, la camera si è liberata, è la 201. Dice, sì, va bene, siamo in due. Dice, però vedete che il bagno è in comune. Il comune, gli ha detto. Dice, ma è lontano il comune da qui? Ah, questo l'ho capito subito, e rito, quindi poi devo seguire quell'altro che ho detto prima. Il maestro mi dice che entro stasera ce la facciamo, quindi noi ci possiamo... Partiamo? È già pronto il maestro, vai. Chiudiamo proprio con lui. Vai. L'acqua di la fontana è amara, amara, che ci non è l'amara, che ci non è l'amara, l'acqua di la fontana è amara, amara, che ci non è l'amara, amore mio, mila, mi via. E come gira, come zunpe e balla, e come gira la linea mia, e ci vorrebbe un'ansidella, ci vorrebbe un'ansidella. E come gira, come zunpe e balla, e come gira la linea mia, e ci vorrebbe un'ansidella, così va la gioventù. Come si porta bene sta vignanella, così sarà la donna, così sarà la donna. come si porta bene sta vignanella, così sarà la donna, amore mio, quante zitella. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. E mamma me, mandato a lì zancone, me dì tu che stasera, me dì tu che stasera, e mamma me, mandato a lì zancone, me dì tu che stasera, amore mio, su un maccarone. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. Grande melodia, del nostro grande Beppe Iuglio. Marangia, marangella, come giallita, forzica te colpita, forzica te colpita, Marangia, marangella, come giallita, forzica te colpita, amore mio, la giratura. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira, come zumpa e balla, e come gira l'allenella mia, e ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. Domenica in speciale, alla prossima domenica, con il nostro grande Renato, il nostro grande produttore, il nostro Renzo, il nostro Danilo, Danilo, Davide, Daniele, scherzavo, Daniele, la nostra Crystal, veramente molto elegante e bravissima. E ci vediamo domenica prossima, domenica speciale. Un saluto alla grande famiglia di STV. Signore e signori, la prossima domenica, grazie anche da Fortunato Buccio. I prodotti alimentari hanno bisogno di essere conservati con cura, devono essere protetti dagli agenti atmosferici e dagli spazi di temperatura, con materiali igienici, resistenti e magari ecosostenibili, come il vetro, facile da modellare e personalizzare, mentre una buona chiusura allunga la conservazione, permettendo ai prodotti di essere distribuiti con calma e in tutta sicurezza. Arpaia. Tu produci, noi conserviamo. S-Carni SRL e Carni Genuine, salumi artigianali di produzione propria, preparati di carne su richiesta. S-Carni SRL e Invia del Progresso, attraverso Abate dei Grandesnil, alla mezza terme, telefono 0968 23 990. S-Carni SRL e Invia del Progresso, 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 S-Carni SRL e Invia del Progresso,